Ringraziare innanzitutto Giuliano De Felice che ha organizzato questo pomeriggio e quanti poi hanno aderito al nostro invito. Francesca Agnichini dell'Università di Pisa, Marianna Tucchioni dell'Università di Bologna, Armana Mater Studiorum, tramite lei ringraziamo anche il caro amico Andrea Augenti che sta seguendo questa ricerca, poi Claudia Villani, dell'Università di Bari, collega di Storia Contemporanea. Noi crediamo molto in questo tipo di indagine sull'età contemporanea sotto il profilo storico archeologico. Da alcuni anni ormai è partito un filone, seguito di Bari da Giuliano De Felice, speriamo che vada in porto anche un PRIN, che speriamo possa consentirci di avere delle risorse a disposizione per fare queste ricerche. che è un PRIN fatto tra l'Università di Bari e di Foggia, c'è la collega Mariuscia Turchiano che lavora, dirige il progetto di ricerche a Campo 65 ad Altamura, che è un risadimento importante per questo tipo di nuovo filone di indagini. Però stanno partendo anche altri progetti, altre attività e oggi ci sarà l'occasione anche per presentare alcuni di questi filoni di ricerca. Per noi è molto importante dal punto di vista archeologico affermare l'adozione dei metodi dell'archeologia per indagare anche le fasi più vicine a noi, quelle dell'età moderna e appunto del contemporaneo, sostanzialmente del novecento, affermando ancora una volta appunto la centralità del metodo, dei metodi dell'archeologia in riferimento a tutti i periodi dell'evoluzione umana. Ed è importante però ovviamente ancor di più, ne parlavamo stamattina a proposito di Ettore Lepore, ancor di più riuscire a considerare i vari e ancora più articolati e numerosi sistemi di fondi nel momento in cui si studia il novecento. Quindi i dati materiali da mettere a confronto con una quantità, un mare enorme di altre informazioni. Però siamo convinti che la documentazione materiale abbia molto da dire anche in riferimento a questi periodi, c'è poco che parla di niente. E ovviamente oggi sarà questo uno dei temi di cui si discuterà. Siamo convinti anche che ci siano, anche per l'età contemporanea, fenomeni, aspetti di forme insediative, di forme di produzione, forme di vita in generale, che quasi, non dico quasi solo con la documentazione materiale, è possibile indagare. Allora, io mi fermo, non voglio prendere altro tempo perché ci sono interventi già programmati e a maggior ragione oggi mi auguro che si sviluppi una bella discussione perché essendo il nostro dottorato tra archeologia e architettura, qui si aprono ancora di più, credo, dei campi di confronto e di integrazione disciplinare, andando molto oltre il concetto di archeologia industriale che per tanto tempo ha in qualche modo segnato l'archeologia dell'età moderna e contemporanea. E quindi, vi fermo qui e vi ringrazio ancora per la vostra partecipazione. A questo punto credo che Giuliano si produca i lavori. Io mi sposto, Giuliano, molto di là, così. Buon pomeriggio a tutti. Mi esprimo veramente i motivi perché questo pomeriggio, perché questo tema, appunto, storia e ciò che noi devono tenere un po' l'anno e anche perché abbiamo avuto, soprattutto, il dialogo a quattro voci che è importante, insomma, per la struttura piuttosto informante che vogliamo dare a questo collineo. Chiaro che mi possono fare riferimento alla settimana Scott, alla prima, a quattro settimane seminari, in cui diciamo che nell'incontro tra archeologi e architetti abbiamo capito, iniziato a capire molte cose, ma in un settore che gli architetti non sono tutti uguali, non si costumano gli architetti, e non servono tutti logi, ma conoscenze complementari, forse. Più probabilmente, sembra, invece, c'è bisogno di un intero spazio, soprattutto in modo, di incontrarsi, non solo per contaminare i teatri, ma anche per creare qualcosa di nuovo. Mi piace pensare, sono una parola che ho studiato molto, ma che è tornata anche in questi giorni, bisogna costruire un sistema di relazioni, che è appunto un termine che è tornato spesso, cioè appostare archeologia, esagio, progettazione, conservazione, tutte parole che sono venute fuori in questi seminari, inizio, che sono in conto all'inizio, dovuti alla duplice natura di questo dottorato, possiamo dire il concetto comune di relazioni, e che questo è l'appreggio giusto per provare a costruire, quello che all'inizio, ma una volta l'era è finito, uno spazio disciplinare comune, che può essere un termine molto generico che dobbiamo riempire tutti i contenuti. Quello che facciamo nello specifico oggi pomeriggio, è provare a raccoltare una archeologia diversa, non anche la ministra, dicendo che è una archeologia altra, che magari in Italia, per esempio, non è ancora molto diffusa, ma lo facciamo perché pensiamo che questo abbia una forte ricaduta anche su quel dialogo, che non può essere solo accluso di problemi di conservazione, di presentazione, di patrimonio anche all'interno della protettazione, ma che in un pensiero che è tanto immaturo, come si parlava negli scorsi giorni, consigliere anche tutte le possibiche dimensioni dell'archeologia. Questa mattina, tra l'altro, diciamo che la storia, la visione crociana transistica, è giusta, appunto, che qualunque storia, non può essere contemporanea, sapere ovviamente che qualunque archeologia, non può essere contemporanea. Quello che faremo oggi, però anche e soprattutto gli interventi delle colleghe, che lo possano dare, daranno un ventaglio molto chiaro di quello che intendiamo è l'archeologia GELPS, l'archeologia più ampia. Qualche minima, che cos'era quell'era contemporanea, ogni giorno non lo capiremo, però possiamo dire, per certo, prendere le parole proprio Giulio, Giulio Volpe, c'era l'altro giorno, certificando l'archeologia composta da una metodologia che contempla un po' questi tipi di modi diversi, e da una lunga durata delle cronologie, soprattutto senza gerarchie tra di esse. Quindi questo è un dato importante, lo sa qualunque archeologo molto scala, che non c'è in tutto, per marzo che sia migliore di un altro, se non vale una strategia di un intervento che è molto più complessa ed è semplice trovare o andare a cercare. Diciamo che possiamo mettere la presentazione diciamo che quello che facciamo oggi quindi è provare e proviamo a attendere questo, da non berlare questo film di un film contemporaneo e capire, provare a capire cosa succede quando si fa la teologia dei tempi recenti, perché si può fare la teologia dei tempi recenti, le tecniche e le metodologie sono in gran parte le stesse, però proprio la tecnologia. Innanzitutto dobbiamo, io credo, capire che ci può essere un doppio significato dietro la parola archeologia contemporanea, l'orcheologia dell'età contemporanea, per esempio nella denominazione nessuno si soviene a dire archeologia dell'età romana, archeologia dell'età greca, però se io dico archeologia contemporanea non si capisce se sto parlando dell'archeologia che facciamo noi di archeologi o dell'altura materiale del carattere del ventesimo del ventesimo secolo. Però dietro questo, da te la leggiamo dell'aspetto del significato che è un punto più profondo che fare archeologia contemporanea come le dire che io prendo due cose, o fare archeologia dell'antropocene, se ne parla da ieri, se appunto ho trovato per la mia volta questa tecnica che ha più l'altro portano molto, ma pertiene più ad altre discipline e quindi fare archeologia di un mondo molto particolare, che è un mondo che lo diciamo pieno di tensioni e di emertidia. Rispetto al mondo che stava prima, una piccola provocazione che vuole che tutto sommato la tecnologia che spingeva Ulissi per tornare in base a quello che era guidato per grandi spedizioni per il Seicento ma per l'anno tutto sommato era la stessa. Nabi aveva una certa evoluzione importante ma nulla da paragonare a quello che è solo guarda dopo la rivoluzione industriale quando è formidata per l'accelerazione di Ticchino sa che è portata oggi a le soglia del parossismo diciamo la forza dell'energia ma noi parliamo di questo ovviamente quindi può essere questa l'archeologia cos'è non questa l'archeologia per chi smagna sul sito così che può far capire qualcosa perché cosa è successo nel novecento che l'uomo ha imparato a creare in un istante un sito archeologico e Ptismagna invecchiata nel corte di un letto abbandono e lo prima distrutta in un centesimo di secondo nel 1945 in un sito archeologico in quale impressionante ma sembra rivedere la pianta di un attimo città che probabilmente sepoltano noi al di là di questo c'è anche un altro modo di concepire l'archeologia del contemporaneo che è l'archeologia relativa cioè ciò che è prossimo ciò che è vicino a noi e quindi è strano perché riguarda il nostro passato se parlo del novecento parlo all'inizio del ventunesimo secolo le fonti di questo passato oltre a i resti materiali sono non le fonti scritte non i libri ma sono i giornali sono le croniche sono i video sono le fotografie e le satelliti sono una serie di oggetti di documentazione che diventano importantissimi nella costruzione diacronica come dicevamo con una tecnologia complessa che ci porti a ricostruire la storia la storia del materiale del passato l'altro appunto qualcuno voleva pensare che sia arrivato alla fine della storia ma poi non aveva ragione anche la teologia non è il centro però è la creazione di traccia è continuata è chiaro che dal punto di risalimento dovremmo parlare però la sede sicuramente perché vedremo tra poco tra l'altro e parlo di quello che farò vedere io vedremo lo scavo l'interesse di grafico potete l'azione di tre o metodologia archeologica che assumerà una quella diversa in alcuni casi perché l'oronologia sarà molto breve la distanza sarà molto breve perché potremmo usare le fotografie come se fossero i dati di grafiche che non sono i segni del passato ma sono i segni del presente però la cosa che interessa di più spero che poi dopo un primo video di interventi poter seguire un video di commenti anche magari qualche altro spunto è quella che possiamo definire l'aspetto patrimoniale che è un termine che vuole che non andrà a tutti io ho preso che ho letto presente fra cinque minuti te l'ha letto di Francesco perché chiaramente non è un patrimonio però questo è importante perché non si può pensare a un'archeologia senza un patrimonio archeologico però che cosa vuole dire questo come si fa a riconoscerelo a identificarlo a dare un valore a trovare una etica anche una parola che abbiamo discusso spesso in questi giorni è tutto un altro problema e per fare tutto questo ci sono come appunto gli ospiti anzi le ospiti di stasera che portano visioni e progetti concreti su questi temi quindi davvero abbiamo provato di immaginarci una struttura facile per cui ci scaviamo la parola come interventi a continui minuti e sperando di suscitare una bella discussione magari poi presentiamo di volta in volta come già Giulio ha un po' presentato però io quello che voglio fare adesso è semplicemente entro un attimo in un vero intervento in cui facciamo qualche esempio di quello che sto dicendo il campo 65 è stato già chiamato in casa è un progetto che stiamo seguendo da mai qualche anno nel 21 e nel 22 abbiamo stato arrivato all'università di Forche un'equipe con diretta da Mendele a Tolerano di Durchiano abbiamo realizzato campagne di scavore come sanno molti presenti in questa sala i dottoranzi e anche i studenti della specializzazione in archeoviglia che fanno l'attività di oggi il campo 75 cos'è? è uno dei campi di prigionia dell'Italia fascista costruito da inizio la seconda guerra mondiale la più grande per estensione una città se stessimo in un'altra epoca in un'altra fase nessuno avrebbe di moda definirla una città un fenomeno di poliogenesi perché si fatti tratta di un inserimento abitato di 12.000 persone in realtà c'è un'arrivata di 12.000 al massimo in un contatto territoriale in quegli anni contava se no 30.000 persone tra i centrati vicini quindi insomma è un apporto un influsso una c'è un'intesa sulla sull'organizzazione antropica del territorio in maniera pesante e tra l'altro appunto è lo sito che conosciamo benissimo dalle fonti conosciamo benissimo dalle fonti che conosciamo abbiamo anche addirittura il progetto è un sito archeologico è una cosa del genere quindi creano le mani peccato che si è completamente sbagliata perché quando andiamo a scavare a rivedere le cose torna pochissimo di questo che dico se è una vista ideale una vista di progetto quanto è cambiato dal progetto all'aumentare delle fonti non aumentano le certezze ma è mantenibile quindi ogni documento così preciso ti fa nascere più domande di quelle a cui ti danno risposta ma questo è interessante quindi un sito conosciutissimo troppo conflitto questa è una foto del 2 settembre del 43 2 settembre del 43 ci siamo prima nella rivistizia per il campo se chi ha fuocato questo è un campo che ha fantasma cioè i 10.000 prigionieri si sono scappati sicuramente non c'è più nessuno però ha perfetto all'attività quindi perché allora andarci a scavare non chiediamo perché neanche anche di quelli che non ho anticipato però perché scavare in questo ruolo perché la chirurgia appunto è fatta a questi cioè dimostra la porta delle fonti materiali la porta delle fonti spontanee quelle che non sono scritte non sono create con l'intenzione di essere fonte perché permette di vedere cose che facciamo dire sempre questo della velocità di scavo cose che sfuggono ai documenti e tanti studi di storia locale di storia non solo che analizzano tutto questi toni ghettani ci parlano delle condizioni di vita in questo luogo ci parlano per esempio non mi dilungo per niente non è questa la sede scavando le voci di ne ci parlano a non capire come si dica ma è questa che sono punizia non sembra che non abbia cucinato nessuno in realtà avevo dovuto cucinare 3.000 pazzo al giorno per due anni insomma è un problema anche erogico questo interessante ma soprattutto scaviamo un sito capiamo le strutture con dei confronti ovviamente ci sono dei confronti intredibili le abbiamo le fotografie le strutture di cultura possiamo paragonarle a quelle di altri campi di prigionieri la cosa interessante è che ci dà il senso del passare delle fasi l'artirologo scavando questo luogo ha riconosciuto le tracce delle fasi per esempio in questo punto la trasformazione di una grande baracca in piccoli alloggi queste con le murature rosse che sono veramente al momento in cui dopo la fine della guerra scappati i prigionieri il campo fu trasformato in centro raccolta profughi per gli italiani visti dalla nazia del nordafrica del nordafrica che tornavano in Italia e che vengono alloggiati temporaneamente qui in africa in Italia in piccoli di quelle abitazioni circa 15 metri quadri per una sabiglia di quattro persone studiamo quindi tipologie e confronti ma soprattutto studiamo queste sono le fasi di questo luogo studiamo le trasformazioni pure in un lato di tempo molto breve racchiuso appunto sono nati di una ventina d'anni siamo in grado di ricomporre un materiale completo che in questo caso abbiamo voluto in vista di un suo racconto di una sua trasformazione in un progetto abbiamo voluto chiamare il paesaggio degli estremi in onore al titolo originale dell'opera di Osborne perché ci sembra di avere un paesaggio in un quale come Muggiano in un giro di pochi in un quadrato tutto sommato si racchiudono resti i campi intergiornali della prima guerra mondiale c'erano anche i campi della prima guerra mondiale qui in Puglia cosa che stridia un po' con il nostro progetto scolastico di un governo di prima guerra mondiale ci immaginiamo si è passata la prova in un certo porto dell'avvento di campi come abbiamo visto il campo 65 basti missilisti della guerra fredda c'è un po' di tutto questo è un caso in cui si può tutto sommato capire facilmente come questa stratificazione se ne ho parlato anche in questi giorni appunto di fasi non si ha una prima che direte di un tipo del seponto ma possono essere anche da pochi centimetri di terra comunque visibili anche sulla superficie dell'intervallo dei giorni nostri sono contesti archeologici più teresetti di archeologi complessi e questo è interessante perché anche pensando già all'annunciare un pensiero alla valorizzazione alla formalizzazione vi considererebbe un sito di memoria come un sito di archeologia un luogo della memoria un luogo dove rappuntare a alcune vicende ma non come un luogo di storia perché appunto che invece la archeologia ci insegna a considerare come un parte di un paesaggio più vasto fin qua diciamo che va tutto bene si tratta di ricostruire un passaggio un'intervallo di retracce anche un territorio noto ambito che i pesanti dei novecento sono enormi sono vastissimi perché i spostamenti sono infinitamente più grandi la diversità è infinitamente più grande rispetto a quello dell'eroga premistriale dicevo giuro prima la priorità industriale sarebbe un termine perfetto secondo me per chiamare questa archeologia se non fosse che fosse che è stata bruciata imprudentamente qualche anno fa come archeologia degli insediamenti industriali tanto che poco le dico che la richiesta ha definita la meno archeologica fare l'archeologia esiste però tutta un'altra categoria di luoghi di contesti nell'archeologia del contemporaneo che sono ancora finito sono non sepolti sono ancora sotto i nostri occhi o sotto gli occhi dei satelliti che difficilmente riescono a far pensare impossibile sembrerebbero quelli non archeologici per esempio i ghetti dei braccianti i ghetti dei braccianti del tavoliero della piazza di Rosano o di tanti altri luoghi della Spagna almeno dell'Italia del nord ce ne sono comunque l'archeologico diventano luoghi che hanno delle tecniche specifiche fondate sul preimpiego in questo caso dei materiali più disparati ma anche dei tubicini di irrigazione che si trovano abbondantemente legati e sono quindi oggetti che possono essere studiati da questo punto di vista come che per esempio nella loro storicizzazione o nel caso del periodissimo enorme il chetto cosiddetto di pista mezzanone si ricollega a un discorso che abbiamo fatto in precedenza perché vedete questa forma strana di questo insediamento non è altro che la pista dell'aeroporto dell'aeroporto della seconda della mondiale che rimane in uso di una baguera di Parcani e quindi è di fatto l'inizio del motivo per il quale poi il migraneo sarebbe il migraneo di quel luogo è una diacronia che invita a rendere le cose poco più complicate e più difficili ma proprio per questo è stato più interessato sono siti quindi che si possono vedere in diacronia perché non sono mai stati uguali noi siamo arrivati conoscendo le notizie conoscendo veramente brutalmente ma dal termine stesso ghetto che è stato imposto dal giornalismo come dei luoghi che sono sempre uguali ma per la foto che vi ho fatto vedere non esiste più è una fase di luogo perché il luogo è stato così si è addensato con un fratto con un impianto urbano interessante molto interessante che dall'altro ricalca lo dico teoreticamente di tante città di dei vari dell'Italia centrale la strada centrale e le traverse si è evoluto per motivi che senza le fonti scritte non sapremmo si svuota improvvisamente perché c'è un incendio che distrugge tutto il terreno viene sempre stato e negli anni successivi si ripopola con delle forze morfogenetiche sfuggono perché quelle che vedete nell'ultima foto non sono baracchie ma sono automobili e roulotte che qualche forza una malattia organizzata rimane a dire nel giro di una settimana riesce a consensare in un luogo in aperta quindi c'è anche un problema di produzione di costruzione di questi luoghi che è archeologicamente materialmente interessante e che vi strada a in questo caso neanche al luogo di memoria ma di oblio per ricondurli attraverso la loro fasi a qualcosa di materialmente tangibile anche se ormai non si è tolto perché normalmente il loro destino è sempre con termini brutalmente politici rosparli e spargerli sulla superficie del terreno come per esempio anche alle armi in branca come è successo nei grandi migliori seguendo senza sovrapporre a quello che ve l'ha detto tra poco ma così riusciamo anche a incanalare un più peggio momento su un altro per mano macroscopico dei nostri tempi se la sua potenziale archeologia cioè le migrazioni che poi sono la base di quello che abbiamo visto finora anche i tramigelati hotspots dei migranti in questo caso che diceva di lesbo che dalla costa turca raggiungono in questa maniera una delle rotte più atollate l'Europa però sono dei luoghi che hanno la loro dimensione materiale assolutamente povera non c'è dubbio ma questa vera archeologia non si teme le cose povere le piccole storie hanno la loro trasformazione come per esempio le preparazioni in vista dell'inverno che sostituiscono dei dati in attendamenti con i container hanno il loro vissuto ricordiamoci che tutti tutti questi siti possiamo studiare morfologia evoluzione dividere in vita le loro fasi serve un archeologo per fare questo perché ricordate non è il tipo di dato a rendere la teologia una disciplina scientifica ma è la tua mentalità e la capacità non è un superpotere diciamo ma è una una forma che ti fa vedere come stratificato e quindi come una successione di fasi nel corso del tempo non è solo una giusta posizione di fotografie satellitare ma è un'analisi interpretativa sulla base delle fonti scritte anche di periodizzazione di un segamento che in questo caso conosce più fasi per esempio dal piccolo base dell'esercito greco che c'era prima degli anni 10 in cui viene costruito un luogo di accoglienza come sicuramente con i campi dei migranti che poi già da una modo estroda essenzialmente vedete con la cosiddetta giungla di Timoria cioè questa parte del tutto estemporanea che diventa il doppio di superficie rispetto alla parte tra un piccoletto ufficiale fino a poi anche in questo caso ad andare distrutta coltata il 11 settembre di 15 il programma in questo caso ricordiamoci del campo 65 si potrebbero rivedere per altri luoghi però la domanda è chiara che tipo di patrimonio possono esprimere questi luoghi cioè che tipo di valore o di comunità possono avere questi luoghi che vengono ad esempio presentati e se lo vedremo subito perché nel caso del campo 65 conosciamo bene la comunità una comunità straordinaria bellissima fatta di associazionismo che ha raccolto discendenti dei militari anche dei profughi con più difficoltà dei partigiani di Jugoslavi ma che comunque comincia intensamente riesce a fare comunità intorno a questo luogo promuovendo iniziative di inclusione festa della Repubblica festeggiata al campo 65 immagini che poi finisce la sua rotina di archeologia post-media che è un grande portoglio nostro comunizza visite in occasione delle ricorrenze concerti spettacoli è il primo embrione di validizzazione perché nei fondi PNRR per il comune di Alcatamura il comune ha candidato a tre luoghi come luoghi di cultura che sono ovviamente il luogo di Alcatamura a Contrelli c'è la cava di Vino e il terzo luogo con il campo 65 sperando che si resta a fare qualcosa dimmi tutto si resta a fare qualcosa perché abbiamo tutti quali i problemi della capacità di spesa dei comuni dei piccoli di un po' la comunità del 65 è una comunità bellissima è una comunità che fa tante cose che interamente vi ho detto più volte è una visita che neanche la ricordazione di fare si era aspettata di poter avere una comunità così vedra perché non è una comunità lavorale per esempio una comunità internazionale e non c'è quell'archeologia del mio giardino in cui si fa il gioco del mio solo perché sta sotto un terreno anzi era il traffico internazionale è rimasto che sia una comunità ma negli altri casi in questo caso che comunità c'è la esperienza che ci sono passati gli esseri umani che hanno vissuto gli esseri umani in questo luogo il trattamento riservato a questi a questi luoghi è questo che secondo me è emblematico anche di tutti i discorsi sul paesaggio che facevano che facevano i giorni scorsi cioè questo è quello che vedete se disattiviamo la funzione historica google o se apriamo semplicemente google mars è una dominazione in modo in verso l'istoria che se lo guardate con la funzione non è come la popolata ho guardato io non è la cancellazione perché ci sono due mesi di differenza tra una foto e l'altra quindi non sono cresciuti non c'è tempo poi c'è ricresciuto quella è una foto del 2014 con pixelata la parte del campo militare greco pixelata con i tipi di sicurezza che ha effettivamente sostituito cancellato la storia di quel luogo in nome probabilmente di un'idea di un paesaggio vergine un paesaggio bellissima un paesaggio mediterraneo fatto di un libio che guarda casa erano stati distrutti ma in che senso erano stati utilizzati negli abitanti di quello insegnato per viverci per scalzarsi e cucinare quello che è il luogo fatto sempre intorno all'ipo di centri di capitale però questa è una storia sbagliata insomma viene abbrassa da grande facilità anche gli strumenti militari in questo possono capire la loro forza ma anche la loro violenza il pellicolo enorme che hanno nel dare un'immagine falsa falsata e in questo caso un'obbligo totale il significato di questi luoghi è un patrimonio tra l'altro e noi vi faccio vedere alla stessa scala alcuni dei luoghi che ho citato adesso il campo 65 il che è di borgo mezzanotte un peggio ci sono da pensi in un sito non ci hanno riconosciuto perché non è un paragono come l'ultimo progetto che abbiamo pubblicato quindi un'unica in sala di bari è uno di tanti aeroporti delle urge l'aeroporti militari della seconda guerra mondiale che è grande come superficie e era grande come cilicino sostanzialmente io ho completamente nascosto sotto gli ulimenti con i disideri che sono cresciuti segreti ma non si conservano ancora tantissime tracce con i sediamenti delle case dei luoghi di spettacolo delle chiste del collo del terragio degli aerei durante il breve periodo dello storico io mi fermerei qui per il momento perché poi magari riusciamo a parlare anche d'altro in un secondo giro adesso chiedo che sia giusto passare la parola agli altri temi che potranno soltanto arricchire anche questo quadro che provo a tracciare in questo momento quello che comunque vorrei che rimanesse appunto è che considerare l'archeologia fino alle soldi della contemporaneità del nostro oggi non solo è un modo per laicizzare la storia più recente quindi anche per proteggersi da tutte le letture identitarie forzatamente identitarie sovraniste si direbbe oggi ma è anche un modo per far arrivare la storia fino ai nostri giorni di evitare che si decida solo se un luogo a un certo punto e poi basta stiamo recettendo che i nostri tra 200 anni non ci sarà la tecnologia nostra cioè dei nostri investiti ma si dovrà fermare per forza in un momento che può essere videorevole possiamo dire 700-800 ma non sappiamo quindi questo è un primo punto di riflessione il secondo è che le comunità di patrimonio vogliamo la dimensione di patrimonio non sono necessariamente qualifiche né facili a volte sono nastoste a volte vedremo non ci sono proprio però è qui non ho sempre il dubbio che si possa trovare un modo per valorizzare e dare un significato etico a tutto questo per fare dell'archeologia un grandissimo strumento di storia che l'archeologia racconta sempre da sempre storie di esseri mali se ricordarsi di Wheeler in questo caso erano prigionieri partigiani salantrofobhi migranti soldati uomini all'esistenza sempre l'umanità appunto senza storie ma anche per questo può interessare la più lucida allora io vi ringrazio per la stazione allora adesso come? eh sì abbiamo a questo punto ascoltiamo invece ritorniamo riappongiamo al passato che è dottoranda nel corso di scienze storiche archeologiche dell'Università di Bologna e che ha già assortivo una tesi di laurea una bella tesi di laurea sulla chirurgia di penoglio e la chirurgia della resistenza in Piemonte con un bello studio di storia degli oggetti ma anche dei luoghi di ricostruzione di appunto della facis materiale della storia delle guerre del becente e stiamo curiosi di vedere il risultato della ricerca ma che è finita la giornata grazie mille della presentazione e dell'invito anche sono molto contenta di poter raccontare un po' il mio lavoro e io effettivamente ho in questo momento iniziato un progetto di dottorato ma l'ho iniziato da tre mesi quindi purtroppo la mia sezione di oggi parlerà anche della mia tesi insomma di miei studi pregresti di quello che è venuto un po' dalla mia ricerca di tesi anche magistrali che si è occupata come ha detto il professore De Felice degli spazi in cui ha svolto la resistenza la divisione partigiana che ha fatto parte del Pefenoglio nella regione delle Langhe che è la seconda divisione Langhe partirei comunque da fare una piccola introduzione sull'ambito di studi della Completo Archeology dentro il quale si situa il mio tema di ricerca e vorrei dire che la Completo Archeology è un ramo degli studi archeologici che in realtà con un approccio interperiodale quindi non parliamo per forza solamente di studi di conflitti dell'età contemporanea dei tempi si occupa dello studio dei resti materiali dei conflitti e della guerra come attore morfogenetico del paesaggio oggi in particolare sì mi concentrerò solamente sulla storia di conflitti che si istituano all'interno dell'età contemporanea un concetto complesso comunque parleremo dei conflitti del novecento e possiamo un po' indicare come progetto apri fila di questo tipo di studi il Defense Britain Project che è un progetto di ricerca che si è svolto tra il 1995 e il 2004 nel Regno Unito con l'obiettivo di censire le strutture costruite come opere di difesa tra gli anni 1940 e 1941 quindi un progetto di due anni nel Regno Unito e il progetto è stato coordinato dal professore John Schofield e è stato un progetto veramente grosso che ha coinvolto più di 600 persone tra volontari esperti e preparatori del settore dell'archeologia per un totale di più di 17.000 episodi di ricognizione e di più di 20.000 strutture cioè in sito stiamo parlando di strutture costruite nell'arco di due anni quindi dopodiché queste strutture sono state catalogate e tutti i loro dati sono state inserite in un database consultabile e caricabile online interessantissimo però anche solo questo primo studio secondo me ci porta a riflettere su alcune caratteristiche che sono tipiche delle evidenze materiali di cui si occupa l'archeologia dei conflitti contemporanei ovvero innanzitutto la serialità dei tipi di evidenze che vengono prese in considerazione la grossa quantità e soprattutto la velocità con cui queste tracce materiali compaiono nel pesaggio e la modifica per fare un peso su di questo e la semplicità delle costruzioni di cui ci si occupa sia a livello strutturale sia a livello di materiali che spesso sono prodotti in fretta e questo può comportare anche una qualità più bassa e una veloce sparizione di questi oggetti di queste strutture e dunque questa grossa quantità che stride in realtà con la velocità con cui queste tracce scompaiono nel nostro paesaggio anche questa velocità dovuto al fatto che è tipico della presenza della nostra epoca che ci siano delle sovrascrizioni e delle modifiche anche architettoniche che interessano il paesaggio e quindi velocemente fanno sparire evidenze che in realtà sono anche recentemente comparte recentemente nate accanto a questo studio mi piacerebbe segnalare come altro ambito di studi complesso e organico ormai con una storia pentennale l'ambito di studi di archeologia della guerra civile spagnola gli studi diciamo un po' di riferimento su questo argomento sono quelli dell'archeologo del Tridogonzale e l'archeologia della guerra civile spagnola inaugura ufficialmente nell'anno 2000 con l'apertura di due cantieri di studio e di scavo che sono l'apertura della fossa comune di Priariante del Bierso in Castiglia León e l'apertura del sistema di linee di trince di riflessione della città di Madrid due scavi diciamo un po' individuati simbolicamente come a prepista di questi studi perché in realtà le esumazioni delle fosse comuni avvengono a partire dall'indomani della guerra e in particolare aumentano esponenzialmente dopo il 75 con la morte del dittatore e la stessa cosa vale per i sistemi di trincea soprattutto per tutti quei fenomeni di ricerca dei materiali metallici che rimangono nelle strutture militari di questo tipo e gli studi sull'archeologia della guerra civile spagnola in realtà hanno come principali strutture di studio le fosse comuni e le trincee ma non si concentrano solo su questi altri tipi di evidenze di cui si occupano sono i sistemi di rifugio interiore i campi di concentramento di prigionia i monumenti costruiti durante il franchismo con un obiettivo che è quello di restituire un quadro complesso complessivo del paesaggio della guerra civile potrei citare diversi altri tempi di studi che si conducono in Europa sui conflitti contemporanei ne abbiamo solo due pubblicazioni che secondo me sono importanti che sono quella sull'archeologia nei luoghi dello sbarco in Normandia che è una ricerca che sta conducendo l'Università de Bogdò-Mauten e il complesso degli studi sull'archeologia dell'Olocausto che si conducono soprattutto ovviamente in Austria Germania e Polonia in particolare i due campi chiave di questo tema sono il campo di Treblinka e il campo di Auschwitz-Birkenau in cui ha lavorato l'Università di Stavford in Italia questo tema a che punto è? in realtà io mi sono concentrata soprattutto sugli studi per adesso sulla Prima e la Seconda Guerra Mondiale nel nostro paese e facendo un'analisi del totale degli articoli pubblicati da rivista Archirurgia Postmedievale rispetto al numero di articoli che trattano di questi due temi ho notato questa cosa intanto che gli articoli di questi argomenti non sono tantissimi in confronto al totale delle tematiche di realista inoltre c'è stata una particolare concentrazione sul tema della Prima Guerra Mondiale dell'anno 2018 che tra l'altro è il centenario alla fine del primo conflitto e alcuni sporadici episodi rispetto al tema della seconda in ogni caso qualche pubblicazione di riferimento c'è per la prima mi sento segnalare gli studi di Franco Niccolis e di Marco Balbi che sono parte della superintendenza dei bani archeologici della provincia autonoma di Trento sono occupati soprattutto della questione della guerra bianca sulle Alpi e per quanto riguarda la seconda lo studio principale del completo è quello del professor pare abbastanza evidente anche la commissione tra il numero di studi della prima guerra mondiale e la tutela legislativa che prevede specifiche discipline e disposizioni di tutela nei confronti di questo tipo di patrimoni in realtà non nei confronti di tutto quello che è il patrimonio materiale della prima guerra mondiale ma vediamo che i beni presi in considerazione sono in particolare dei sistemi che affitti dell'arri di protezione che prevede navoli quindi non la materialità complessiva della prima guerra mondiale però sicuramente il fatto che ci sia una disciplina che tutela questi beni ha posto un'attenzione maggiore nei confronti dello studio di questo tipo di materialità oggi fatta questa breve premessa vorrei riflettere con voi su quello che è in realtà il tema che in questi anni ho provato che proverò di affrontare io nel mio progetto di studi di studi di studi ovvero le eredità materiali della resistenza è complesso parlare di eredità materiali e di siti e di archeologia della resistenza perché bisogna fare i conti con un fattore che lo storico Santopedi ha definito la strutturale brevità della resistenza io trovo che sia una definizione particolarmente cantita calzante anche quando proviamo ad analizzare questo fenomeno storico movimento militare a livello di resti materiali cresciuti nel paesaggio ovvero il carattere intrinsico di effimerità di questo movimento che dipende da diversi fattori che sono il bisogno di organizzarsi velocemente al momento dello scioglimento degli eserciti regi e della firma della BISTIPS dell'Osterno del 43 a partire da quel momento la necessità di essere immediatamente nascosti invisibili e clandestini nei confronti di quello che è il regime di governo nazista è un movimento autogestito all'inizio per quanto monitorato organizzato in un organo coordinativo di CLN per questa organizzazione coordinazione e in sé effettivamente in uno stato operativo abbastanza ritardivamente a partire dalla listata del 44 inizialmente le divisioni di contigione si trovano a gestirsi organizzarsi organizzare i loro rapporti anche in maniera autonoma quindi fluida e almeno inizialmente autofinanziata dunque le risorse non sono abbastanza consistenti da permettere ad esempio di costruire delle strutture militari snow detto questo per quanto transitoria effimera una guerra come quella della resistenza al fascismo ha lasciato delle cicatrici nel paesaggio molto spesso sovrascrivendosi ad altre storie e su evidenzi materiali che esistono prima dell'avvento della resistenza altre volte invece vedremo un caso producendo nuove strutture spaziali e comunque sempre nuove percezioni e modellazioni del paesaggio in funzione delle operazioni legate alle insomma alle resistenza al fascismo sempre attingendo una nuova fase e un nuovo strato alla storia dei siti in cui agisce ora vi raccontino di due case studio entrambi legati alla storia della divisione della seconda che agisce in un territorio intorno alla città di Alba che si distribuisce a cavallo tra le province di Cuneo Asti e Torino partirei dal caso di Excelsior che è stato uno dei tre aeroporti partigiani costruiti nell'Italia è stato costruito a Vesime che è un paesino in provincia di Piazzi e a partire dal settembre di 1944 ho coinvolto nei lavori di costruzione la missione alleata che stava su territorio comandata dal maggiore tempo e i partigiani della scompita generale appunto e a partire dal novembre del 1944 è stato attivo come visitante del raggio perché è alleati inizialmente il periodo dell'inguale del 1944 poi è un periodo molto complesso e sta operando azioni partigiane le attività del turno del dicembre nel 2008 diciamo invitare di interrompersi del programma Alexander e il campo di atterraggio viene preso dai fascisti ma torna attivo poi in febbraio in mani partigiani e sarà un aeroporto di importanza cruciale anche per le operazioni di liberazione infatti il 14 aprile atterneranno in questo aeroporto i fotografi e i giornalisti che dall'Inghilterra documenteranno poi la liberazione in Italia è interessante che sia stato costruito in questo vicino questo piccolo abitato perché gli altri due aeroporti partigiani dell'Unione d'Italia si trovano nei pressi di Firenze e di Bellino quindi si appoggiano a dei cento abitati consistenti grossi in questo caso la scelta ricade su questo territorio è che qui vicino c'è l'ospedale di Corte Emilia che è l'ospedale partigiano più grosso del Piemonte e dunque per gli alleati questa scelta ha una doppia funzione la prima è quella di avere la possibilità di controllare più facilmente i lanci che prima che nel caso in cui non ci sia una struttura da incorporare ad oggetti si vengono di trovare questi container che sono lunghi un paio di metri e pesano tantissimo quindi quando vengono lanciati daglierei c'è sempre il rischio che provo di danni cadendo nei punti in cui non si vuole che cadano che vengono intercettati da nemico che vadano persi insomma avere un appoggio in cui trasportare i beni che vengono mandati per i lanci è sicuramente una sicurezza in più soprattutto come si tratta di beni che devono finire in questo ospedale militare e inoltre appunto c'è questo motivo dell'ospedale di porti va bene dopo la guerra questo spazio viene completamente abbandonato e torna ad essere un campo per divato a vite come quasi tutte le regole delle nande finché nel 2010 un movimento di richiesta dal basso di persone che sono ex partigiani della zona oppure familiari richiedono al comune di vedime uno spazio per dare voce alla memoria dell'errore di giorno e il comune accordano una saletta negli spazi comunali in cui si crea un allestimento museale in cui si racconta la scelta delle errore di porti in vita la cosa che a me ha colpito quando sono imbattute in queste vicende è che in realtà nel posto in cui c'era la pista del terraggio non c'è assolutamente niente che segnale questa storia e l'allestimento museale non dice dove si trovasse effettivamente ho consultato numerose pubblicazioni che parlavano delle storie di questo aeroporto e nessuna diceva l'aeroporto si trovava alle coordinate XY era impossibile trovare dove fosse nessuno finché non mi sono imbattuta in una serie di fotografie aeree in realtà non tantissime che però facendo un'intersezione tra la fonte fotografica le fonti scritte che avevano lasciato i partigiani che avevano partecipato alla costruzione che quindi dicevano che l'aeroporto si trovava lungo il corso del fiume Bormida nei pezzi di un'ansa sono riuscita a individuare quale potesse essere secondo me l'ansa a cui si riferivano e molto fortunatamente con Google Earth ho capito che l'ansa poteva essere rimasta stabile nel senso che secondo me da queste due fotografie si vede che il territorio potrebbe essere quello che c'è in giro mi sono arricchata sul luogo e ho scoperto che accanto a questo campo c'è un edificio che è una azienda vitini quella che ho inquadrato e questa azienda esiste da prima della guerra e nella memoria familiare delle persone che portano avanti questo esercizio si tramanda il fatto che il campo di fronte alla azienda di altre parti del fiume fosse quello della vista di atterraggio quindi mi sono arricchata percorrendo delle strade sterrate e dove c'è un cerchio rosso c'è un pilone della luce in cui c'è una terapia di denti per 30 cm che dice qui c'era l'edificio partito insomma secondo me è interessante notare come la memoria storica di Excellency sia stata tramandata c'è stata una richiesta da parte della comunità che voleva riconoscere il valore di questa esperienza ma la memoria materiale e la memoria dei modi non c'è stato un processo di attenzione e riconoscimento di tutto spazio fisico insomma che posso secondo episodio secondo esempio allora cerco di essere molto rapido Vandivilla è una frazione del comune di San Benedetto Belbo nella quale si svolse una battaglia considerata particolarmente importante il 24 febbraio del 45 quindi giusto a due mesi dalla fine della guerra ed è importante perché è stata l'ultima vittoria fascista sulle forze partigionali di Milandia come succede per molte battaglie della resistenza è considerato anche importante perché in questo scontro cade un comandante partigiano in particolare il comandante Pinin Vallo e Tupoli abbastanza famoso anche per la letteratura fenogliana infatti Fenoglio partecipò in prima persona a questo scontro dopo che scrisse cinque testi che sono il capitolo conclusivo del partigiano Johnny due racconti le due pillole sole e due lettere anche perché in questo scontro morì un ragazzo che era un cammino lo scontro si svolse presso questa cascina che adesso vedremo dove poi molto spesso Fenoglio si recava con gli amici per rivivere il racconto della storia di Vattivilla con la suggestione che dava loro il confronto dello spazio materiale in cui si svolse questo scontro nel 2005 è stato intervistato questo signore che adesso vedremo nel video per un caro di Fenoglio che porta gli intervistatori presso la la cascina dello silvazio scontro di Vattivilla e mostra loro che sul muro della cascina ci sono ancora dei fori lasciati dallo dallo sparatore insomma per lo scontro a fuoco ok visto questo documentario ho detto mi rego sul posto per vedere se effettivamente è ancora così e recano invece la situazione che ho trovato in questa ovvero il muro in realtà è stato restaurato è stato restaurato almeno nel 2010 perché queste fotografie sono di Google mouse nel 2010 e mentre il documentario è del 2005 quindi all'arco di quei 5 anni i ruoli sono completamente spariti ma ho fatto un incontro interessante nel senso che nella cascina di Valdivilla vive ancora un abitante che vive e vive tutta la sua vita e si chiama Carlos Carrone che è rinato il 2009 1939 quindi ha 6 anni all'iscontro dell'abitante di Valdivilla ed era lì e quindi ho avuto modo di sentire il racconto di questo signore qui dovremmo aprire una pratica gigante sulla questione delle fronte orari che è molto dimenticata e la narrazione di questa persona sicuramente porta con sé una memoria di secondo grado perché lui ha vissuto questo evento da molto giovane quindi il suo ricordo sarà stato influenzato anche dal racconto delle persone adulte esperienze con lui e anche dal fatto di aver raccontato cento di apposite e un po' andrà di vita però l'interessante è che anche lui ricordava i buchi nel muro anzi mi ha portato a vederli e solo in quel momento si è vero quando vi vedevo un'intero c'era antico e soprattutto li ricordava anche su un'altra parete che io ho iniziato qui con una riga verde e il ricordo di Carlos Corrani coinciderebbe assolutamente con le fonti scritte perché tutte le fonti che raccontano in questa parte dicono che i tedeschi si arregliavano in questa cascina e sparavano dalle finestre di questa parete ai partigiani che stavano nel cortile o dietro questo dietro un camion che stava proteggiato in questo spesso quindi che ci fossero dei buchi dati dei proietti attorno nelle finestre di quella parete è assolutamente plausibile anzi inoltre il confronto della fonte morale mi ha permesso di confermare le dinamiche che avevo potuto leggere nelle fonti scritte e di aggiungere alcuni dettagli in particolare il signor Sperrenese ricordava che gli spari venivano anche cioè che le formazioni in partigione erano anche riparate dietro a questa struttura che è un piccolo l'ultimo quindi confermando l'esistenza di questo pilone già durante il tempo della guerra quindi da una cronologia a questa struttura elettronica di farlo dello spazio della battaglia di Vallevilla quindi detto tutto questo il fatto che questo incontro sia stato possibile è ovviamente una fortuna nel senso che non è più così scontato che i testimoni diretti siano ancora in vita e possano raccontare gli episodi del lavoro dell'esistenza e che cosa possiamo fare che cosa ho pensato di poter fare io e che cosa mi auguro che la comunità che si occupi sarebbe in questa circostanza è innanzitutto raccogliere tutte le memorie che siamo ancora che abbiamo ancora occasione di poter consultare e dopodiché metterle in dialogo e farle dialogare con altri tipi di fonti tra cui quella materiale archeologica così da poter restituire ai luoghi la loro voce la loro memorie e i valori storici di cui essi testimoniano Vallevilla è ovviamente un'occasione mancata che però deve portarci a riflettere sulla precarietà e sul pericolo di perdita del patrimonio materiale contemporanea la cancellazione dei fori secondo me equivale a un mancato riconoscimento storico del valore del luogo della materia di Vallevilla e in particolare del valore della sua memorie per concludere finisco quali sono i motivi quindi per non c'è bisogno di occuparsi di questo tipo di patrimonio archeologico prima di tutto il non perderlo tutelare nell'esistenza del valore archeologico attraverso le azioni come la scienza lo studio la tutela l'istituzione che la nostra disciplina compie e mette in atto un processo di riconoscimento e di patrimonializzazione inoltre a dare ai luoghi un nuovo ruolo di testimoni ora ci troviamo alla fine di quella che lasso il grande video che avete tenuto come il testimone che cosa serve ancora per prendere questi obiettivi sicuramente un processo di patrimonializzazione e un processo di tutela legislativa anche della seconda guerra mondiale come mai secondo me non si è ancora realizzato questi due punti uno perché percepiamo la guardia di resistenza ancora come un episodio molto legato molto vicino noi quindi non c'è il timore che si pone nei confronti di un qualcosa di antico e della fede può avvenire questo e secondo perché sappiamo in Italia il discorso sull'esistenza storicamente è percepito come lo scorso politico e di vivo proprio la proposta di tornare a riflettere sul tema con uno sguardo diverso che può essere quello di patrimoni materiali ha sicuramente l'obiettivo di avvicinare tramite i luoghi e le cicatrici lasciati da lavorare nel pesaggio di nuova comunità elettrici di patrimonio alla storia dell'antifascismo in un dialogo che vorrebbe essere perennemente vivo tra archeologia e sagittà io mi sto occupando adesso di un progetto di dottorato che si intitola Atleta archeologica della resistenza che ha l'obiettivo di raccogliere in questi tre anni il numero più alto costibile di siti legati alla memoria materiale della resistenza in due luoghi che sono il primo amore di Emilia Romagna ovviamente è un progetto grosso e non in realtà più difficilmente distinguibile però uno degli piccoli obiettivi che mi sono posta e che mi piacerebbe mettere in atto è quello al fine di questi tre anni di creare una piattaforma online attraverso la quale le comunità locali e i singoli cittadini possano segnalare siti che loro conoscono in cui ci siano resti materiali modifica il paesaggio che risalgono i tempi della resistenza e dopodiché auspico che ci sarà un gruppo di ricercatori in un team che si occuperà di valere le sue proposte e inserirle sulla piattaforma nelle voci della fronte e la resistenza in generale per aver portato a creare i conflitti a creare i conflitti può sembrare a prima vista una cosa un po' antiquarica perché siamo tutti abituati a vedere se è smetto al contro o ci sono però almeno due cose di relazione di QF1 che anche la teologia ancora vera è passata attraverso la fase antiguaria e eventualmente è cresciuta prima di diventare una disciplina scientifica quindi anche io non ne lo saremo presto poi che si debba fare un aplanto delle forme per farlo questo non so ne potremo discutere e poi c'è un'altra questione che secondo me mi piace chiaramente cioè che questa possibilità di leggere così nel dettaglio degli episodi che sembra avere delle scaramucce diciamo a livello bellico invece raccontano benissimo che la dimensione inedita del conflitto del novecento quello oggi si ricordava che si ricordava appunto Hobsbaw cioè detto chiaramente il novecento è il secolo delle guerre cioè non ci sono mai stati di molti emanzati di conflitti per record di un secolo come nel novecento se pensate che era pieno per il mondiale 4-30.000 al giorno c'è una cosa incredibile per non parlare dei bombardamenti con dei bombi atomici quello che è successo solo 20 anni dopo quindi la presenza di tutte queste trage nel pesaggio e sintomo di queste a me in un'inverno di quale diciamo gli elementi si è mai scoperto tra le rapide si può dire anche dopo per esempio il tema della conservazione è chiaro che non si può conservare si può conservare tutto la grande versione che fa l'archeologico contemporaneo in generale quella anche è una certa serie di tanni in fronte della documentazione cioè pur che si documenti se proprio si riconosca un valore un valore etico a quello che si trova si può anche lasciare andare diciamo a meno o meno un obiettivo che vale la pena perché ha un significato universale ma questo proprio ha il posto visibile nel contemporaneo ma anche nel rischio di tanti ritrovamenti di pseudotesori perché ogni giorno appaiono i suoi eronati dei giornali che subito mutano la parallelizzazione qualunque cosa si trova in uno scavo in una realtà di ferie della realtà che bisogna essere anche un po' realisti e soprattutto avere a largare più che conservare tutto dare in capito questo è il secondo me che è quello che fa poi magari ne parleremo solo gli spunti non sono certo pochi allora a questo punto ci avviciniamo ancora a noi per l'intervento di Francesca che si è un bellissimo gruppo di lavoro di Pisa che ruota intorno a Mappalardo tra i tempi dell'archeologia di Città e allora è stato diciamo una randuarda anche in questo grado se no poi si è infonsolato su entrambi i tipi di specializzazione questo mi ha molto piacere fanno anche progetti di altre rucine dei conflitti o sull'importanza di raccogliere le ultime testimonianze orali di quelli che a tempo erano bambini ma che sono ancora o che permettono di trovare i luoghi o anche di dare un senso a queste cose io non dico altro perché già il titolo per sé credo che darà poi qualcosa in cui discutere prego se può accendere ho già acceso buonasera a tutti sì allora Giuliano tanto grazie dell'invito e della possibilità di parlare ma soprattutto spero di discutere dopo di questi temi che comunque in Italia sono ancora a spot per quanto invece non dobbiamo dimenticare come ci sia una grande tradizione e soprattutto un grande dibattito un confronto teorico metodologico e tematico che ci viene dal quadro internazionale insomma che su questi temi lavora da ormai più di 40 anni io come ha già accennato Giuliano lavoro alla MAPALAB che è questa unità di ricerca e didattica dell'Università di Pisa che si occupa principalmente di metodologie quindi in maniera trasversale ma che negli ultimi anni ha aperto una sezione proprio sia di didattica che di ricerca dedicata all'archeologia contemporanea archeologia contemporanea che anche su questo potremmo sicuramente dopo dibattere che cosa intendiamo per contemporaneo dove mettiamo questa famosa forchetta per come la intendo io è quel tempo che non ha ancora la fine quindi possiamo discutere da dove parte ma sicuramente per me finisce oggi quindi una parte di questi progetti sono molto vicini a noi e quello che vi racconto oggi che è il progetto sulle migrazioni contemporanee non documentate all'ampiedusa è un progetto che si cala estremamente nel presente vi faccio veramente a spot tre informazioni chiave per capire dove siamo perché a me temo che come me come tutti di Lampedusa abbiate un'idea che è quella che ci è stata data in questi ultimi anni da Emilia e da una narrazione estremamente dominante quindi secondo me ci vuole qualche punto di riferimento per muoversi Lampedusa ovviamente saprete tutti che è una piccola isola sono 23 km quadrati nel mezzo del Mediterraneo e questo delle volte qualcuno si stupisce è un'isola molto più vicina alla costa africana che non a quella italiana è ubicata proprio geograficamente sulla placca africana non su quella europea è più a sud di Tunisi più a sud di Malta ci vogliono nove ore di nave per arrivare dall'Ampedusa alla Sicilia quindi in realtà è un'isola veramente in mezzo a quel mare e veramente vicina al continente africano ci sono delle date chiave all'Ampedusa c'è il 1986 che fa scoprire agli italiani l'Ampedusa cioè cosa succede e qui veramente ve la dico in tre parole Gheddafi bombarda diciamo così manda dei missili in una sorta di ritorzione contro un bombardamento aereo fatto dagli Stati Uniti su Tripoli lancia questi missili verso l'Ampedusa non colpisce l'Ampedusa cadono in mare ma questa notizia questo attacco comunque al territorio italiano scatena una serie di situazioni la prima intanto è quello che gli italiani scoprono che esiste l'Ampedusa perché fino a quel momento era veramente un'isola sperza che nessuno conosceva un'isola che viveva quasi esclusivamente di pesca pesca delle spugne e delle salve e altra cosa che succede l'Ampedusa che già da prima in realtà era un avamposto militare perché aveva una base nato perché strategicamente ovviamente posizionata in un posto non così usuale viene ancora più rafforzata in questo suo ruolo quindi diventa un'isola dove la presenza militare da quel momento in poi e ancora di più negli ultimi trent'anni diventa prepotente e preponderante queste sono le immagini che noi abbiamo scattato e non vi ho portato ma li potete trovare sul nostro sito anche i filmati che abbiamo girato sull'isola dove tutta una serie di aree quindi ricordiamoci 23 chilometri quadrati c'è uno scoglio come lo chiamano lì tutta una serie di aree in realtà al momento risultano interdette alla cittadinanza anche ai turisti perché sono diventate basi militari basi militari di tutti i tipi all'Ampedusa c'è tutto c'è qualsiasi corpo armato e appunto delle grosse fette sono state in qualche modo espropriate dall'uso comune collettivo l'altra data importante è quella invece del 95 entra in vigore Schengen il trattato Schengen quindi si può girare liberamente in Europa ma contemporaneamente si rafforza l'idea di rafforzare i confini europei quindi oltre a essere un avamposto militare Lampedusa diventa il luogo di frontiera Lampedusa è il punto più meridionale della frontiera all'opera quindi diventa un confine un confine di frontiera Schengen Schengen ovviamente non abbiamo tempo di affrontare nel dettaglio comunque cambia pesantemente le politiche che consentono l'accesso all'Europa e qui avviene in maniera molto lampante anche se non arriva sui telegiornali anche se noi non abbiamo saputo nulla in quegli anni ma i Lampedusani vivono questa cosa in maniera molto concreta perché i Lampedusani e i Nordafricani i Tunisini i Libici hanno sempre lavorato insieme si sono sempre scambiati le barche i posti per notare una volta si dormiva in Tunisia una volta si dormiva a Lampedusa a secondo di quanto carburante aveva la barca non c'era problema si lavorava insieme si stava insieme poi a un certo punto si crea un confine un confine che nessuno vede un confine in mezzo al mare ma che diventa estremamente reale perché quel tunisino che deve arrivare a Lampedusa ha bisogno di un permesso che non ha e quindi diventa una persona irregolare in qualche modo e questa cosa ovviamente poi si amplifica con tutte quelle che saranno poi le norme i vari dispositivi legislativi che nel corso degli anni le altre due date essenziali sono il 2011 la primavera araba e questo forse invece ce lo ricordiamo tutti perché a quel punto c'è l'emergenza a quel punto c'è l'invasione dovete considerare che dal 95 al 2011 in realtà le persone sono sempre arrivate a Lampedusa in numeri importanti e questa accoglienza il soccorso l'aiuto è sempre stato fatto dagli Ampedusani senza nessun genere di istituzionalizzazione diciamo così quella che viene definita una ospitalità di tipo domestico chiamiamolo così mentre invece col 2011 arriva lo Stato viene creato il centro d'accoglienza che diventa poi negli anni l'hotspot questa è l'unica immagine che io sono riuscita a fare perché l'hotspot è una di quelle aree dove non si può andare credo che a prescindere da qualunque sia la posizione di chiunque di noi tutto si può dire meno che sia un punto di accoglienza questa è un'area perimetrata da fili spinati quelle che vedete evidenziate sono delle torrette di guarda che appunto io ho fatto le foto col teleobiettivo ma c'avevo i militari che mi facevano così di no colmita spianato quindi è un'area dove non si può entrare e soprattutto dalla quale non si può uscire le persone che vivono qua sono persone segregate in questo spazio questo per farvi il contesto di dove noi abbiamo lavorato quindi c'è stato questo grosso cambiamento che è quello fino all'arrivo dello Stato dello Stato e dell'Europa perché poi lì c'è Frontex che è la la forza militare europea quindi da un'accoglienza proprio fatta dalla comunità a un'accoglienza dalla quale la comunità è stata completamente espropriata non può assolutamente fare niente le barche dei pescatori in mare a Lampedusa non possono salvare le persone in mare se si trovano con un'aufragio davanti devono avvisare la capitaneria di porto comunque la guardia di finanza perché non possono salvare i migranti appena denunce e processi che sono tuttora in porto cosa abbiamo fatto noi qual era l'obiettivo di questo progetto era quello di andare a documentare la traccia materiale lasciata dalle migrazioni sulla scia di lavori famosi archeologicamente parlando quelli di Jason De Leon sul confine Massipusa quelli che ha citato già prima Giuliano a Moria di Ioannis Amilakis l'idea era quella di andare e verificare qual è la traccia di quello che sta succedendo anche di quello che succede da quasi 30 anni in realtà perché l'idea dell'emergenza dell'emergenza è il racconto che noi riceviamo è una narrazione costruita su questo mare lì c'è una storia questo è un fenomeno ormai veramente storicizzato che prosegue ma che ha già una sua storia abbiamo usato le tecniche diciamo così più tradizionali quindi abbiamo fatto la ricognizione delle spiagge delle scogliere di una serie di aree interne quando siamo riusciti abbiamo analizzato una parte delle cose trovate in laboratorio quindi come si fa con qualunque reperto abbiamo unito a questo però anche tutta una parte etnografica che poi cerco di spiegarvi quanto peso ha avuto e l'importanza che abbiamo capito avere e una documentazione fatta attraverso il video quindi il nostro team in realtà era un team multidisciplinare archeologi antropologi e videomaker coinvolgendo poi i ragazzi dell'università insomma con una serie di esperienze didattiche a più ripresa più campagne sull'isola queste sono le aree che abbiamo indagato e questo è quello che più o meno tutti i giorni si trova sulle spiagge di Lampedusa non vi vado a raccontare nel dettaglio perché non abbiamo tempo i singoli oggetti quello che vi dovete immaginare è che qui ovviamente non esiste il reperto sepolto la traccia sepolta qui esiste la traccia che si trasforma e si trasforma continuamente quotidianamente nello stesso momento in cui tu la documenti perché arriva l'ondata e porta via e porta quindi a porti e a sporti e questi assemblages cambiano continuamente e il mare è uno degli agenti principali più potenti ovviamente perché porta cose ma da dove a seconda delle correnti a seconda dei momenti possono venire da lontano possono venire lo scoglio davanti noi abbiamo deciso di posizionare tutto quello che abbiamo trovato abbiamo documentato l'abbiamo fatto in maniera sistematica come Giuliano sa noi siamo un po' fissati con i dati giusto un attimino come laboratorio quindi è anche uno dei motivi poi magari ci sarà ne potremo chiacchierare dopo in cui io credo fortemente perché l'archeologia contemporanea ci può far fare ci può stimolare su tantissimi temi il rischio però è poi di scordarsi di fare di farne una documentazione no? mentre invece è il nostro pane quotidiano quello di documentare le tracce quindi abbiamo documentato geolocalizzato schedato tutte questa è una delle spiagge che abbiamo analizzato tutti i pallini che vedete sono gli oggetti che erano presenti in in quella spiaggia tra questi alcuni di quelli che abbiamo trovato giusto per farvi darvi un'idea di che cosa arriva dal mare arrivano oggetti personali che possono essere gli indumenti le scarpe ma soprattutto oggetti che raccontano che cos'è fare quel viaggio allora noi siamo partiti pensando di appunto sulla scia dei lavori che vi dicevo prima un po' di poter ricostruire delle storie le storie delle persone che affrontano questa cosa terribile arrivano in questo punto che diventa un'ancora di salvezza un momento di passaggio ovviamente non è la meta finale ma è comunque la salvezza e poi quando ci siamo trovati abbiamo capito che questo non si poteva fare non eravamo non eravamo lì per fare questo né per raccontare delle storie singole individuali personali e questo perché non ce lo diceva le tracce non ce lo diceva la materia sì abbiamo trovato un pezzo di passaporto abbiamo trovato alcune cose che sono effettivamente riconoscibili a una persona ma qui c'è un fenomeno qui c'è un fenomeno storico c'è un fenomeno contemporaneo enorme di cui noi non abbiamo contezza comunque gli ultimi nove anni solo no chi è arrivato chi è disperso quel tratto di mare cioè nel canale Sicilia sono 45.000 persone 45.000 persone questo non è la storia di qualcuno è una storia che va oltre questa idea e questo ce l'hanno detto le tracce non ce l'hanno detto altre fonti ce l'hanno detto le tracce perché le tracce ci parlano di viaggi di condizioni disumane di viaggio quello che vedete in alto ad esempio è un bagaglio un bagaglio fatto con un sacco di mangime per il pesce tunesino dove dentro c'erano delle cose tenute all'asciutto possibilmente perché in alcuni casi si parte così in altri casi invece si riesce a portarsi un cambio ad esempio perché comunque si vuole arrivare in maniera dignitosa quando si scende da quelle barche terribili ci sono tantissime tracce proprio lasciate dalle imbarcazioni le imbarcazioni che non sono i barconi a cui siamo abituati perché abbiamo la narrazione del barcone non è vero la traccia materiale ci racconta di tanti tipi di imbarcazioni quelle imbarcazioni ciascuna imbarcazione per il materiale comunque è fatta per la tipologia per la forma per i colori delle vernici che sono stati tutti analizzati ci hanno raccontato cosa un'economia che c'è dietro a questo c'è un'economia di sfruttamento un'economia che è diventata industriale in qualche modo perché adesso e l'abbiamo visto nel giro di due anni tornando più volte sull'isola l'ultima volta che sono stata a novembre sono arrivate le barche arrivano questi barchini in ferro che prima non arrivavano che sono terribili nessuno di noi ci monterebbe mai sopra che sono fatti appunto in maniera seriale insieme a quelli in vetro e resina che vengono fatti per un viaggio one shot si vengono costruiti e utilizzati per per mandare le persone fino fino lì sempre che ci arrivino che appunto sono imbarcazioni molto precarie quindi già vediamo no una differenza in questi anni proprio qui vedete uno dei grossi scherecci che sono rimasti ormeggiati in porto all'Ampedusa qui non apro perché non lo chiuderemo mai tutto quello che comporta a livello di impatto ambientale questa situazione che come vedete qui ci sono le imbarcazioni piene di nafta e con tutto quello che hanno sopra stratificate nelle acque dell'iso abbiamo documentato le aree di stoccaggio di queste imbarcazioni che negli anni sono state organizzate in punti più o meno isolati dell'isola e abbiamo visto come queste immagini che ora vi faccio vedere sono una carrellata fatta da febbraio del 2020 a novembre 2022 quindi in giro di due anni questa era una delle aree di stoccaggio uno di quelli che venivano definiti cemiteri dei barconi e durante il covid una giugno 2006 scusate giugno 2020 6 giugno 2020 viene dato fuoco a tre di queste imbarcazioni quindi noi torniamo e troviamo solo questa che ha questo tra l'altro questo quest'opera fatta da uno street artist che creano anche diciamo un evento intorno a questa sua operazione trovata in rete i video ma che immediatamente sei mesi dopo non esiste più e diventa un'unica carcassa quindi rimangono solo le parti metalliche di cemento e ancora di più piano piano l'erba le sterpaglie intorno se ne riappropriano trasformando quest'area in qualcosa di completamente diverso questo per dire che ci siamo immersi in questa traccia che si trasforma che è più veloce di noi più veloce del tempo con il quale riusciamo a documentare un'altra parte che abbiamo documentato proprio come traccia è quella delle sepolture di chi è arrivato nel corso degli anni a Lampedusa c'è una parte del cimitero di Lampedusa dedicato ai migranti curato da una parte della comunità un piccolo gruppo in realtà si chiama Forum Lampedusa Solidale questo gruppo di persone che vivono o lavorano a Lampedusa ci sono operatori delle ONG c'è qualcuno che passa si ferma insomma è un po' una cosa eterogenea e che cerca forse di patrimonializzare non lo so la butto lì però di lasciare fissare la memoria dell'ultima delle tracce è quella dei corpi che nel 99,9% dei casi è una memoria anonima perché di queste persone non si conosce il nome e ahimè non si cerca il nome e questo è un dettaglio essenziale che vuol dire non restituire quella memoria soprattutto a chi è a casa che aspetta a chi è a casa che potrebbe avere diritto a ci sono vedove ci sono orfani ci sono situazioni legali che quando non si fa un riconoscimento implicano tutta una serie di situazioni però qui c'è un'operazione che lascia traccia a livello materiale ad esempio riutilizzando i legni delle imbarcazioni per fare le croci i segnapoli di dove sono le sepolture oppure invece ora negli ultimi anni questo gruppo si è adoperato proprio per trasformare queste tracce che sono comunque più effimere o comunque più fragili come quelle linee in un progetto che sta trasformando tutte le labidi in ceramica grazie alla collaborazione con una serie di artisti quello è quello che noi abbiamo trovato che arriva sull'isola però quando dicevo poi è successo qualcosa siamo arrivati lì con un'idea e l'abbiamo stravolta nel tempo perché ci siamo accorti che c'era qualcosa che invece l'isola restituiva rispetto al fenomeno migratorio allora abbiamo censito abbiamo ricognito oltre alle spiagge i siti di stoccaggio e di scariche anche tutti i monumenti e i segni che ci sono sull'isola che sono stati fatti in parte dalla comunità lampedusana in parte come ad esempio questo grande murales che vedete da esperni alla comunità quindi artisti che sono arrivati a Lampedusa dato il grande richiamo mediafico questo non ce lo dobbiamo dimenticare che l'isola ha avuto e ha e che subisce perché è un posto veramente che in qualche modo subisce il fatto che ci sono sempre giornalistici ci sono sempre studiosi forse è il primo posto dove nessuno mi ha chiesto sei un archeologo che non ci posso fare cioè c'è talmente tanta gente che fa ricerca che a nessuno più frega niente come dire sono proprio abituati e hanno quindi alcune cose sono invece proprio della comunità come ad esempio questi che sono degli elementi questo è quello centrale questa spirale è un il monumento che è stato creato in memoria delle vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 che è un evento che è uno spartiacco per l'isola dal momento che oltre a essere morte 368 persone sono stati gli isolani a soccorrerli una barca di pescatori ha dato l'allarme e sono andati tutti sono usciti con le barche e hanno soccorso e salvato una parte di queste persone circa poco meno di 150 e in questo non l'inter esempio hanno voluto restituire il nome cioè c'è stato un gruppo di persone una persona in particolare di Lampedusa che ha fatto una ricerca cercando i contatti le relazioni per trovare tutti i nomi delle persone morte abbiamo fatto questo lavoro anche andando proprio a cercando di entrare in contatto con la comunità proprio perché volevamo capire come veniva vissuto questo fenomeno e qui arriva il titolo nessun patrimonio a Lampedusa perché in realtà qui non c'è un patrimonio come lo forse lo intendiamo noi da valorizzare qui c'è una quotidianità che va avanti giorno a giorno quelle spiagge piene di materiali sono rifiuti vanno pulite perché arrivano i turisti quindi perché di quell'ora si tampa perché dopo che Lampedusa è stata scoperta siamo passati dalla pesca al turismo adesso si vive quasi esclusivamente il turismo e l'isola viene veramente invasa di turisti e non di migranti quindi qual è cosa vuol dire qui il patrimonio c'è un patrimonio di sensibilità e di sensibilizzazione ad esempio questo è il campo IBI IBI è un'associazione che promuove il diritto alla lettura per i bambini che viene fatto tutti gli ottobre a ottobre per cercare di promuovere e sensibilizzare sul tema delle migrazioni e viene fatto dalla comunità di Lampedusa una parte questa è la coperta di Yusuf un progetto che è bellissimo e molto interessante proprio legato alla materialità è stato chiesto in memoria della morte di un bambino che è arrivato due anni fa morto a Lampedusa di soli sei mesi e che è lì sepolto di inviare quadratini dieci per dieci fatti a maglio e l'uncinetto per costruire una grande e infinita coperta collettiva che è questa che vedete stesa che è stata stesa il 2 novembre nel giorno dell'anniversario e che continua a crescere c'è un giardino della memoria ad esempio questo è un'area che è stata destinata subito un mese dopo il naufragio del 2013 a un'area al luogo della memoria per i sopravvissuti sono state piantate 368 piantine circondate da da questi da queste pietre da questi sassi e a ricordo delle persone morte in quel naufragio ecco in questo in questa occasione ad esempio noi abbiamo partecipato con il forum Lampedusano o meglio ci siamo offerti loro vogliono recuperare quest'area che è stata abbandonata nell'ultimo decennio e non sanno più non sapevano più dove erano ubicate tutte queste piante perché un po' erano seccate un po' i circoli si erano dispersi quindi in questa occasione noi abbiamo fatto la stessa operazione estremamente archeologica che è stata quella di ricognire l'area riconoscere le tracce dei circoli e delle essenze che c'erano e posizionarle da tutti questa è una sono due aree poco distanti e posizionarli i resti in modo che loro possano andare a sostituire o rinverdire insomma le parti mancanti per chiudere queste sono le tracce sono anche un po' le immagini quelle che siamo abituati a vedere alla fine proprio dai media dai servizi è ciclica almeno io la vivo così ogni tanto viene fuori che si parla di migranti e loro ogni tanto c'è il servizio su Lampedusa c'è la denuncia eccetera però queste sono effettivamente le tracce materiali che ci sono su quell'isola come vi dicevo magari si trova anche l'oggetto questa è una bolletta della luce no dell'acqua scusate pagata in un paesino vicino a Madia in Tunisia c'è la data di quando è stata pagata che è sei giorni prima che noi l'abbiamo trovata dentro alla tasca di un paio di jeans su una delle imbarcazioni quindi qualcuno che è partito ha pagato la bolletta prima di partire e poi forse insomma è arrivato lì cosa ne dobbiamo fare di questa cosa qui questa diventa la cosa che mettiamo nella vetrina diventa una cosa che raccontiamo qui c'è la vita di qualcuno che è vivo cioè la vita di qualcuno che vive adesso questo è il grosso secondo me il grosso tema a cui l'archeologia del contemporaneo si deve confrontare perché si occupa a differenza di tutta l'altra archeologia della vita di qualcuno che è ancora vivo che può smentire quello che io ho capito di quelle tracce che per il quale devo avere estremamente rispetto attenzione c'è una questionetica fortissima con la quale secondo me come archeologi non siamo tanto abituati a confrontarci però nello stesso tempo queste cose sono patrimonio sono denuncia questa è una bottiglia di urina ne abbiamo trovate decine forse a centinaia sono bottiglie che vengono riempite di urina perché quando finisce l'acqua non c'è altro da bere mentre si viaggia allora io ovviamente ve la butto lì come provocazione ma perché con Giuliano c'era come letti che doveva essere un dibattito questo spero che che lo sia cioè bisogna chiedersi davanti a questo tipo di tracce no cosa come ci vogliamo correre e cosa ne vogliamo fare noi abbiamo pensato che quello che dovevamo fare era dare traccia della traccia documentare e raccontare perché perché io questa bottiglia l'ho vista solo lì e non l'avevo mai vista nelle immagini nei servizi ho visto le persone scendere dalle barche con il telefonino questo avevo ahimè visto quindi bisogna forse forse il nostro compito in questo caso in un'archeologia di questo tipo è dare la usare la forza della traccia materiale per creare delle contronarrazioni ve la butto là poi magari se ne chiacchi così in particolare per molti che erano una distresa comunque un po' di una voce ritenevo che fosse per esempio di questo dialogo veramente provocatore di unicamente di un momento che sì assolutamente particolarmente di un discorso emozionante non c'è dubbio la persona trova un'interessante la parola spesso ti propongono un'emozione con un aggettivo orribile c'è un aggettivo diverso emozionante che è un modo più denso di significato con carico di importanza tra le tante cose con queste questioni veramente veniva in mente questi ritrovamenti che voi fate è veramente una pioggia per il futuro perché è una collazione ecologica di rinvenimenti misurati come fate benissimo voi geolocalizzati quantificati che purtroppo non ha termini di confronto precedenti che nessuno ha raccolto sulle spiagge di Lampedusa negli anni 50 però chissà magari nel 2100 qualcuno raccoglierà e chissà troverà non temerà più con le cose e allora questo potrà essere una traccia materiale di un passato di una crisi della modernità che poi si sarà superata in un spigio o di qualcosa che è cambiato perché non c'è dubbio che se ne avranno una differenza perché ortami legno bocchi questi si possono trovare c'è cosa che restituisce il mare normalmente perché è evidente che c'è un senso storico di qualcosa necessiterà di un termine di controllo per restituire una periodizzazione diciamo così tra l'altro ovvio che poi non arrivano solo le cose di chi viaggia no? ci sono le cose della bestia esatto l'entanglement l'ennesima potenza allora per concludere questo giro di presentazioni di suggestioni passiamo alla parola l'archeologia nati che è una storica l'archeologia la dialoga spesso la storia è molto lo facciamo adesso per me pochi anni che lavoriamo dialoghiamo di storia l'archeologia anche in una dimensione particolare che è una contemporanea in vista qui a Univa insegna la storia culturale didattica della storia che sono due materie molto importanti e coordina il seminario permanente di public history e di digital online quindi credo che il suo punto in vista adesso alla fine di questa carrellata dell'intervento guarda storie che sarà il significato ulteriore sui quali tre grazie sì grazie intanto per avermi invitato perché sono state tutte le relazioni interessantissime veramente piene di spunti e da storica cercherò anch'io di soprattutto stimolare il dibattito perché qui ci troviamo in un contesto in cui si parla di patrimonio del contemporaneo e poi tanti interrogativi poi ruotavano attorno a questo tema poi alla fine ci chiediamo se è legittima l'archeologia del contemporaneo se è legittimo pensare a un patrimonio del contemporaneo e in che termine frutto anche delle ricerche archeologiche devo dire che questo tema dal punto di vista storico ci riporta una cosa che sicuramente tanti di voi vedono nella quotidianità le guerre sulla storia le guerre sui monumenti le guerre sull'insegnamento insomma siamo e non è un vero soltanto italiano le domande che ci stiamo facendo qui se le fanno in tutto il mondo quindi un primo elemento su cui riflettere è proprio questa distinzione cercherò di impostare un po' dal mio punto di vista questo tema intanto distinguendo tra quello che fanno le nostre discipline la storia e l'archeologia che come ha detto Giuliano come avete ricordato voi sono una forma mentis un metodo scientifico di avere a che fare con le tracce del passato più o meno contemporaneo e anche da storico con le tracce del passato più o meno contemporaneo e poi un altro tema che è quello che si potrebbe chiamare della memoria pubblica i processi di patrimonializzazione questi sono due grandi ambiti che sono distinti però quindi soltanto in alcuni momenti storici gli studiosi gli storici gli archeologi andavano un po' a braccetto con chi faceva le politiche del patrimonio e decideva quale passato tramandare quindi col potere politico o con altre forme diciamo istituzionali che erano i luoghi in cui si decideva cosa era un momento e cosa no cosa andava tramandato e cosa no quindi c'è una storia anche di questo rapporto tra gli studiosi e le politiche del patrimonio che va capita per capire dove siamo in che punto siamo e poi c'è il tema del contemporaneo mi è piaciuta tantissima la definizione che hai dato tu tagliando con un dibattito lungissimo invece che chiedici quando inizia l'età contemporanea diciamo intanto che finisce oggi ecco però effettivamente quando inizia l'età contemporanea vedremo che è utile per capire una serie di temi io ho preparato a blocchi questa presentazione quindi andrò velocemente su alcune cose giusto per impostare un problema poi se ci sarà tempo si potrà recuperare altro allora diciamo che si discute molto su questo fatto che il passato ci circonde ovunque intorno a noi siamo impossessati del passato che c'è il boom delle memorie e del patrimonio memory ed age boom ci sono anche tantissime pubblicazioni gli studi i memory studies sono infiniti quindi siamo circondati da usi del passato più o meno contemporaneo che proliferano non solo gli attuali media taglio con semplifico molti temi il web è punto zero hanno ci moltiplicato le possibilità di narrazioni del passato usi del passato quindi viviamo anche in un'età che grazie la evoluzione mediatica legata poi social alla rete o altri ci inonda favorisce questo fatto siamo inondati dagli usi pubblici del passato però questi fenomeni il fatto che qualcuno ha sempre deciso cosa andava tramandato del passato alle generazioni future quindi le politiche della memoria le politiche del patrimonio e anche gli usi del passato ci sono sempre stati non è un fenomeno la prima cosa da storica che vi sento di dire su cui dobbiamo prestare attenzione non è un fenomeno che nasce oggi lo facciamo dagli imperatori romani ma giusto per citare un caso molto noto l'Adam Nazio Memorie cioè si è sempre giocato su cosa ricordare e cosa non ricordare perché il modo con cui noi tramandiamo il passato fa parte del modo con cui costruiamo le identità soprattutto le identità collettive quindi è un tema che c'è sempre stato che adesso ci viene sbattuto in faccia grazie ai nuovi media e grazie alla possibilità che ci consegna poi il digitale di rimaneggiare in continuazione le narrazioni del passato e quindi ce lo troviamo dovunque quindi molte questioni dipendono anche da questo da questo aspetto qui nello stesso tempo però sappiamo tutti che sul passato si litiga si è sempre litigato abbiamo detto lo facevano gli antichi romani ma chiunque quando arriva vuole raccontare la sua storia spesso si spotta con le storie dicendo la storia è scritta dai vincitori e invece viene riscritta dai vinti ma non è una semplificazione da prendere con con un sorriso ironico perché in realtà noi lo sappiamo le discipline scientifiche vanno avanti così cambiano le domande perciò la storia le nostre discipline sono sempre contemporane cambiano le domande cambiano i problemi e c'è una continua revisione questo significa che quando andiamo a narrare in modo diverso aspetti del passato quando contestiamo il modo con cui la storia è stata raccontata un patrimonio è stato definito significa che andiamo a cancellare il passato c'è tutta questa questione della cosiddetta cancel culture anche molti storici Adriano Prosperi per esempio ma tanti altri se ne ha dibattito anche a livello internazionale molto ampio temono che la smania di continuare a tornare sul passato per raccontare altre storie di altri soggetti da altri punti di vista e di contestare significa in realtà distruggere il passato stesso ma è questo il problema cioè tornare rivedere il modo con cui raccontiamo o le tracce materiali o raccontiamo la storia significa distruggere il passato allora io vi propongo di ragionare su due aspetti connessi un conto da questo momento in poi se parlo di storia se parlo di archeologia parlo delle discipline scientifiche quindi se parlo di passato parlo di passato in termini generali quindi di tutto quello che sul passato si può dire raccontare e anche manipolare quello che c'è nella sfera pubblica quotidiana quindi intanto lo storico se alza la voce e dice temo la distruzione del passato secondo me sta temendo un'altra cosa teme la distruzione del ruolo dello storico quindi stiamo discutendo del ruolo del contributo che la disciplina scientifica come storia la disciplina scientifica come archeologia può dare alla conoscenza del passato che viene messo in discussione dalla proliferazione di tanti usi o abusi del passato però c'è un ambito che ha a che fare con l'età contemporanea in particolar modo l'età contemporanea nell'età in cui si afferma la società di massa la sfera pubblica contemporanea i processi di democratizzazione la scuola pubblica quindi la sfera pubblica contemporanea non è quella dell'impero romano abbiamo opinioni pubbliche un po' più avvertite abbiamo la scuola dell'obbligo e quindi diciamo il governo della memoria pubblica è un po' più complesso e la memoria collettiva pubblica che è sempre questa il risultato di un patto ridefinito nel tempo su cosa è importante trasmettere del passato le generazioni future si costruisce in tanti modi si costruisce stabilendo che monumento erigere che memoriale erigere quale giornata della memoria porto nelle scuole pubbliche o comunque come stato considero fondamentale per i miei per l'educazione dei miei cittadini si costruisce con la proponomastica con gli archivi con i musei con ciò che viene definito patrimonio con l'insegnamento della storia soprattutto poi nelle scuole pubbliche quello tutte queste cose vengono chiamate adesso politiche della storia politiche della memoria insomma abbiamo capito credo quello di cui stiamo parlando ed è una cosa che è non solo legittima ma che va poi studiata quindi c'è un insieme di apparati che definiscono cosa tramandare cosa importante trasmettere del passato le generazioni future e il nostro lavoro come studiosi è una cosa un po' diversa allora forse nella seconda metà dell'ottocento questo ci diciamo anche noi tra storici lo storico addetto alla memoria nazionale e andava d'accordo andava a braccetto con le politiche della memoria quando si è costruito lo stato nazionale italiano avevamo bisogno di un certo racconto del risorgimento di certi monumenti di certe giornate da ricordare di costruire gli archivi in un certo modo questa è una cosa che è sempre successa adesso questo rapporto tra le discipline scientifiche e la gestione della memoria collettiva pubblica le politiche della memoria le politiche del patrimonio complicato dalla proliferazione sui media di tutte le narrazioni sul passato un po' instabile ecco perché secondo me il disciplinarista viene messo in discussione perché i processi di memorializzazione e patrimonializzazione di fatto sono collegati alle politiche dell'identità quindi ogni volta che stabiliamo un momento un patrimonio una giornata della memoria stiamo parlando dell'identità di oggi del presente quindi ecco perché l'ambito poi di studi sull'identity politics è molto legato a quello delle memory politics quindi questo è un fenomeno che si può anche studiare anche gli studiosi di storia culturale lo studiano che è un fenomeno di questo tipo culturale pubblico politico di questo stiamo parlando tant'è che su questo sorvolo però se si può tornare dopo se ne sono occupati anche alle Nazioni Unite alle Nazioni Unite cioè dal 2009 il Consiglio dei diritti umani dell'ONU istituisce una figura speciale sul tema dei diritti culturali e in quest'ambito via via si capisce proliferano intanto le guerre sulla memoria non siamo neanche arrivati a George Floyd a quella guerra delle statue come l'abbiamo conosciuta noi nel 2020 si arriva a capire che come si racconta la storia dei processi di memorializzazione se li guardiamo dal punto di vista dei diritti culturali possiamo effettivamente trovare una chiave per capire che cosa bisogna fare nella sfera pubblica quando qualcuno si alza e dice non mi riconosco più con quel documento non penso più che la statua del Folston debba stare lì perché quello era uno scherzista non mi riconosco con questo racconto oppure i padri americani o altri che si deve fare insomma sono molto interessanti questi rapporti poi ovviamente come tutte le cose che riguardano l'ONU sono pubbliche si possono scaricare ma se voi vedete le domande e queste sono domande che ci accomunano ecco perché poi spesso con Giuliano parliamo nel report che è un po' a Ginevra nel 2013 in cui si fa un po' il sunto del lavoro su questi temi le domande sono quelle che ci stiamo ponendo cioè le prospettive di tutti i partiti o delle comunità sul passato devono essere incluse nei manuali tutte le prospettive anche quindi di comunità che sono in conflitto su quale è passato tramandare tanti conflitti ci sono c'è il conflitto sulla black history e white history quello di genere oppure i conflitti che derivano da periodi effettivamente di guerre civili quindi le memorie sono sempre divise soprattutto quando ci sono soggetti e punti di vista molto diversi come si deve fare a mettere nei libri di testo passati divisi memorie divise vedete la seconda parte in modo simile le visioni e le prospettive di tutte le parti delle loro comunità devono essere tenute presenti quando si costruisce un memoriale o un museo quindi di che stiamo parlando quando si parla di guerre della memoria di cosa facciamo quando andiamo a definire che una cosa è patrimonio e un'altra non lo è stiamo parlando della costruzione della memoria pubblica e cioè di che cosa del fatto che nella sfera pubblica contemporanea queste poi sono tradotte in italiano ma è facile recuperare tutto il testo nella sfera pubblica contemporanea proprio perché adesso faccio una lezione di storia contemporanea ci sono varie comunità è una sfera più aperta spesso democratica può succedere che una generazione diversa una comunità che non si sentiva rappresentata nel racconto del passato nel patrimonio nel monumento che altri prima di lei avevano eretto ci sia si apra un conflitto che si deve fare questo è un tema che ha a che fare con la memoria pubblica quindi potremmo dire col ruolo pubblico dello storico col ruolo pubblico dell'archeologo e poi sono le domande che le colleghe anche si facevano prima ma dice un'altra cosa perché questo rapporto dice che per garantire che la sfera pubblica contemporanea sia democratica bisogna mantenerla aperta aperta quindi una generazione diversa una comunità diversa deve poter prendere parte a definire quale passato tramandare alle future generazioni e solo se si prende parte insieme ci si confronta il rapporto col passato non è come diceva Giuliano non diventa divisivo se invece una comunità si alza e dice no quella statua non va abbattuta perché io mi riconosco in quella l'altra comunità che deve fare a noi io accanto allora metto un'altra statua che dice un'altra cosa guardate che di questi fenomeni non solo se ne occupano gli studiosi ma avvengono dovunque nel mondo vi faccio vedere solo qualche esempio questo si può ritornare chiaramente dopo l'uccisione di George Floyd la guerra delle statue alcuni si sono accorti che c'è una guerra delle statue in tutto il mondo ma in realtà c'era da già da decenni come il conflitto tra black history e white history ma la cosa interessante è che da quel momento in poi la situazione si è talmente radicalizzata che se leggete per esempio alcune cose tanto quelle slide le lascio di questa delibera del dipartimento di letteratura inglese dell'università di Chicago addirittura per il ciclo di ammissioni dei laureati 2020-21 il dipartimento di inglese dell'università di Chicago accetta solo candidati interessati a lavorare in e con i black stars l'inglese come disciplina è responsabile dello sviluppo di gerarchie di produzione culturale c'è una grandissima battaglia nella sfera pubblica che arriva quasi a rendere il confronto con il passato e quindi con anche il ruolo della letteratura inglese aveva avuto nel passato uno scontro tra titani in questo caso effettivamente lo studioso del passato dice qua si vuole cancellare ma questa non è una questione disciplinare è una questione della sfera pubblica e in America queste cose contano riguardo a letteratura no riguardo solo a letteratura questo è un esempio tratto dal Metropolitan Museum di New York in cui il direttore austriaco del museo avvia un progetto di una nuova mostra per correggere la storia occidente centrica dell'arte allora si apre questo progetto affiancando queste due statue una il coros greco l'altra è Mangaka del Congo e poi si dice tra qualche anno arriveremo a questa esposizione in cui si dimostra che le vere origini dell'arte sono africane e non greche o occidentali c'è un peropero perché queste due statue non sono coerve cioè una è del sesto secolo avanti Cristo e l'altra è della seconda metà dell'Ottocento ecco perché questo nell'articolo di Repubblica in cui si presentava questa cosa la questione di genere le questioni razziali sono diventate talmente forti talmente conflittuali nella sfera pubblica e politica da andare a impattare in maniera forte non solo nell'insegnamento della letteratura inglese come abbiamo visto prima ma anche nella costruzione delle esposizioni di un museo quindi che cosa è patrimonio e che cosa no adesso questa questione è diventata molto forte politicamente però all'UNESCO sono benissimo chi studia le questioni del patrimonio già dagli anni 90 si è accesa la battaglia sulla definizione del patrimonio perché si criticavano i criteri europei occidente centrici adesso tutti sanno che consideriamo patrimonio anche patrimoni materiali di culture proprio perché era misurato su di noi questo è un altro caso interessantissimo che sarà pubblicato sul sito di Historia Ludens ma è indicativo perché è la storia di questo caso che è indicativo questo è il re del Benin allora in questo articolo Daniele Boschi racconta questo avvenimento della chiesa di St. Paul a Londra siccome la chiesa anglicana da anni sta cercando di fare uno sforzo per andare incontro a narrazioni più eque della storia rispetto alla storia imperiale e white britannica qui nella cattedrale di St. Paul a Londra siccome nella cripta c'è una targa in onore di un ammiraglio che era stato quello che aveva assaltato il regno del Benin alla fine dell'Ottocento e quindi acquisito quel regno l'impero britannico che succede che il decano e il capitolo della cattedrale di St. Paul chiedono all'università di York all'università e poi al museo al Pete Rivers Museo di Oxford tra l'altro diretto da un archeologo di commissionare un'opera che mostrasse la reazione a questa targa in modo da dire guardate noi abbiamo raccontato in una targa questa cosa però vogliamo che anche la vostra comunità quella del schiarizzata del regno del Benin venga rappresentata però poi gli storici vanno a vedere non solo il re del Benin ricordato in questa cosa ma il regno del Benin era un regno schialista dove si praticavano anche sacrifici umani questo per dire che la pressione della memoria pubblica e dei conflitti che nella sfera pubblica ci sono spesso arriva fin dentro il lavoro che l'archeologo come scienziato lo storico come scienziato fanno e prende il sopravvento questo è un tema fondamentale da cui non si può sfuggire per cui lo storico e l'archeologo devono fare il loro lavoro poi devono capire come intervenire in questa sfera pubblica di conflitti e prendere posizione è tutto qui? no non è tutto qui perché c'è un altro risvolto del problema che forse mi sembra strano ma che per chi studia la situazione americana la situazione in Canada o le reazioni appunto fuori dall'Europa le guerre sul passato già vede in realtà spesso si preme sulle discipline scientifiche mettendone proprio in crisi lo statuto scientifico e dicendo che è storia o è archeologia solo quella che risponde a una domanda nel presente le domande ci sono sempre però una disciplina scientifica a servizio di problemi dell'indagine offre le tracce aiuta affianca anche il lavoro di una comunità che vuole riappropriarsi del suo passato ma non è in sé per sé al servizio di un'identità come abbiamo visto nel caso del monumento per il re del Benin che addirittura insomma oppone uno schiavista agli schiavisti inglesi ed era peggiore lo schiavista americano questa frase poi vi dirò di chi è insomma chi scrive dice ma se noi non leggiamo il passato attraverso il prisma delle questioni sociali di giustizia contemporanee che stanno nel dibattito contemporaneo razza genere sessualità nazionalismo capitalismo non stiamo facendo storia cioè se noi non ci pieghiamo a fare storia o non pieghiamo le nostre discipline in risposta alle urgenze dei conflitti pubblici contemporanei non facciamo storia perché spesso è così la nuova storia spesso schiaccia sul presente il passato come si fa quando moralisticamente si vuole giudicare appunto lo schiavismo dell'ottocento con i metri dell'età contemporanea o possiamo dire con le questioni di genere non possiamo schiacciare il passato sul presente questo le nostre discipline lo sanno passato una sua complessità comunque anche quello dell'età contemporanea e quello che scrive questo articolo lo dimostra con questo progetto lo conoscevate il progetto sul 1619 promosso dal New York Times è un progetto che è arrivato nelle scuole americane in cui si fa la battaglia di dir l'origine della storia americana non è né i Pilgrim Fathers né la dichiarazione di indipendenza ma è il 1619 quando vengono sbarcati in Virginia i primi schiavi questo progetto portato avanti dal New York Times con l'aiuto anche di studi storici però in realtà già criticato dagli storici perché poi diffonde fatti che non sono tutti provati storicamente soprattutto non descrive la tratta degli schiavi in tutte le sue dimensioni dice chi scrive l'articolo e al servizio vado in ganna anche di progetti turistici di valorizzazione del patrimonio che spesso prendono fischi per lanterne e quindi creano monumenti a qualcosa che non c'è stato di cui erano responsabili anche gli stessi africani soltanto perché è una questione sensibile nel dibattito pubblico ma non è una questione storica o archeologica provata chi è questo signore è il presidente della più grande associazione degli storici che esista quella americana storici e insegnanti e questo signore qui che è un africanista quindi lui criticava con cognizione di causa gli esiti di quel progetto è stato talmente attaccato dagli storici in America ci sono varie cose che voi potete leggere che ha chiesto scusa perché ha urtato la sensibilità di chi si batte per le questioni razziali poi volendo potete leggere questa è una delle storiche che l'ho attaccato dicendo che insomma così offre il fianco la critica a queste battaglie questo viene solo in America è avvenuto al congresso questa cosa che vi sto per lei guardare su questo sono le ultime battute al congresso internazionale di scienze storiche cioè la massima assise internazionale in cui si confrontano gli storici che si svolge si doveva svolgere nel 2020 poi per il covid è stata spostata c'è un keynote speech c'è una relazione importante di questa storica filosofa della storia in cui si interroga sul significato della disciplina storica e alla fine conclude forse dovremmo ripensare il nostro modo di fare ricerca storica e adottare le proposte fatte dagli antropologi e trattare l'immaginazione come metodo l'empatia l'amicizia come metodo la speranza come metodo in realtà tutto il suo intervento io ho fatto anche ci sono delle foto di questo intervento che è stato fatto che poi non solo su youtube si può vedere tutto questo intervento è come la missione il senso di colpa il fatto che la storia il canone eurocentico occidentrocentico con cui la storia è stata raccontata è sbagliato e che la risposta qual è? non abbracciare lo statuto scientifico della disciplina e adeguarla all'esplice del presidente ma dire forse è proprio la forma mentis della disciplina che va cambiata quindi vedere i limiti della storia e imparare da modi diversi di approcciare il passato e si arriva alla fine a dire che forse la storia applicata la public history e meglio della ricerca scientifica in realtà questo è il pericolo che non dobbiamo incorrere è fare il lavoro di scienziati umanisti ma scienziati e poi capire cosa invece va fatto nella sfera pubblica cosa va fatto nella sfera pubblica lo dice benissimo il rapporto le Nazioni Unite sui diritti culturali non c'è veramente bisogno di dire di dire altro è giusto se vi volete divertire Luigi Caiani ha fatto anche quest'altra quest'altra rassegna quando tu dici che altri approcci al passato sono meglio dell'approccio scientifico arrivi ad abbracciare anche il creazionismo ci sono esempi di manuali di testi ma anche adesso purtroppo di insegnamenti nelle università americane che dipondono visioni del passato che si ispirano ai miti locali o alla religione o alle visioni alle cosmologie dei dei popoli locali quindi lì si c'è il paradosso che per avere la comunità con sé dismetto il pensiero scientifico perché mi tengo dentro i loro miti le loro cosmologie le loro idee sull'inizio della storia ci sono vari esempi su questo è un fenomeno mondiale questo è un fenomeno mondiale quindi io concluderei su questo perché mi sembra che sia un tema importante da sottolineare dovremmo discutere di due temi come stare nella memoria pubblica nei conflitti che in tutto il mondo si sono aperti sul quale passato tramandare e questo è il tema del patrimonio che ruolo poi può avere invece una disciplina scientifica che può aiutare anche le comunità a rispondere al bisogno di conoscere il passato questa è una cosa molto interessante e io concludo su quello che mi avete fatto venire in mente voi ma che per una storica contemporaneista è il pane quotidiano siccome problemi nuovi sono sempre di tolambolo nuove generazioni nuove comunità hanno diritto a stabilire che un pezzo del passato va recuperato perché altrimenti le politiche della memoria che sono anche politiche dell'oblio vengono subite dalle comunità quindi se una comunità vuole ricordare i luoghi della resistenza io come storico come archeologo metto a disposizione le mie discipline per aiutare a costruire scientificamente questo rapporto con il passato e ovviamente siamo poi in occidente magari nella memoria pubblica cerco di evitare che invece ci sia solo la levata di scudi e la levata di scudi non la fanno solo i politici la fanno spesso anche i disciplinaristi quando pensano che io non posso raccontare le storie delle storie effimere no? però la word history dice che uno dei fenomeni più importanti da indagare sono le migrazioni quindi ho bisogno di fare quel tipo di studio quindi l'agenda poi dei fenomeni di studio è anche quella che dovrebbe essere tenuta saldamente in mano degli studiosi e non lasciata mai se noi arriviamo ai casi estremi che vi ho fatto vedere alle spinte della politica dei conflitti del momento ma insomma con un occhio a una sfera pubblica più possibile aperta e non non divisiva non chiusa nell'identità come dice la sua Giulienne l'identità culturale intanto non esiste o l'identità culturale è in continua trasformazione e persino la nostra la vostra è sempre aperta alle intersezioni con l'identità degli altri che stiamo a difendere capiamo invece meglio in che direzione stiamo andando le nostre discipline sono delle formazioni molto utili dalle strutture chiusi grazie alcuni appunti, per esempio, come si fa a mettere in libri di testo l'archeologia, il problema è che pensiamo all'archeologia a fare in libri di testo delle scuole e già li impostiamo per un problema, per esempio. Ma come si mette l'archeologia in un museo? Forse non c'è la siglietta, non c'è la siglietta. Interessantissima le parole UNESCO, io credo che sia una parte più bella, che ci può interessare più direttamente, è tutta una lezione importante. Cioè, mi viene a dire che i nostri temi di archeologia, per amici architetti, per progettazione, al volvo voglio un progetto, non per un museo, ma per un'archeologia, che sappia negoziare e contestare i significati, non che si preoccupi solo del modo in cui farle apparire più velli, in cui farle apparire più curatevoli. Negozi e contesti significati, però contesto roma in un altro significato, quella lingua italiana è bella, la stessa parola vuol dire due cose completamente diverse. Allora, io non ho tante cose da dire, ma ovviamente, se tutti vogliamo aspettare, aspettiamo con ansia i migliori interventi, che queste tante provocazioni, mi siamo piatti più tranquilli, adesso ci siamo stati provocatori, abbiamo annunciato. Giovanni, è il bisogno di una fila. No, è il giovane. Non ho potente spazio di dottorale, è il dottorale di voi, è il dottorale di voi, è il dottorale di voi. Prego. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti per il primo secondo. Innanzitutto vi ringrazio, perché la tematica estremamente è fascinante. Si tratta di temi che per me sono, essendo molto legati alla contemporaneità, sono anche molto legati al tema del progetto. Ed è per questo che mi danno da pensare moltissimo, perché sono ricchi anche di storie, che spesso e volentieri anche lo strumento del progetto, e in qualche modo prova a tirare fuori, a lasciare all'interno della programità. Però vedo che comunque i grandi temi che sono stati in qualche modo esposti qui sono a me a fare principalmente con le nostre abitazioni, i migratori, i compiti. Io stavo pensando a qualcosa di un po' diverso, cosa che mi ha fatto un po' inserito, forse anche, che rende una completa coscienza all'interno del mio progetto di ricerca, che è l'insediamento in compiuto abusivo di Pizzosella, che fondamentalmente è un simbolo del sacco di valea, che ora viene chiamato dal mostro di Pernostra, la collina del Visonore. E quindi quello che mi chiedo io è che il fatto che noi ci stiamo spostando verso una tutela del territorio e del paesaggio, non è necessario fare qualche recupero di testimonianza di questi momenti tragici, il perdio del paesaggio stesso? Perché altrimenti poi dopo finisce che facciamo una dannazione e muore, cioè nel senso che nel tentativo di recuperare il paesaggio, ci perdiamo quei punti in cui questo meccanismo è collassato. E quindi a questo punto, data la mole del danno, del abusivismo sul territorio, mi chiedo quali sono i riteni di selezione in un'ottica di recupero del paesaggio, però che deve coincidere anche con le testimonianze di questo fenomeno. Abbiamo detto anche che il patrimonio esiste quando è percepito come il valore. Però in questi casi, cioè che valore esiste le testimonianze che sono esplicitamente percepite come disvalore. Posso chiedere una cosa? Cosa ti hai detto? La perdita del paesaggio. Sì. Ora io non lo conosco nello specifico il caso che hai citato, però mi viene da pensare, non è quello un paesaggio? Cioè, hai capito? Nel senso, è la perdita del paesaggio perché quell'elemento lì, che è sempre di capire, le cose che hai detto, che è come un mostro, l'abusivismo, ha portato via qualcos'altro, che era il paesaggio che avevamo in mente, perché viene sentito invece, come dicevi adesso, magari da chi vive quell'area lì, come qualcosa che ha rubato, qualcosa ha intaccato, qualcosa che era considerato bello, non lo so che era vissuto, che magari è stato usurpato, però mi viene da chiedere, ma se ti dici, ho perso il paesaggio, cosa intendi? Perché forse invece il paesaggio lo rapprovi lì. Però, ad esempio, qui c'è questa cosa che abbiamo detto, che il patrimonio esiste se il valore è percepito da una comunità, quindi forse percepite il ruolo è quello di, magari attraverso lo strumento del progetto, una cosa lo lascio lì, attraverso lo strumento del progetto è quello di prendere qualcosa che è percepito con un disvalore e creare degli strumenti di lettura che in qualche modo lo trasformano, lo riscattano, vanno a diventare come una percezione completamente diversa. Non lo so, questo è un'ipotetica. Chiaro che quello che dice Francesca si può ragionare intorno al concetto di valore, perché il valore, in quel senso, ho potuto chiamare il patrimonio oggi, perché è la definizione che si prepara all'università del patrimonio, però forse è banalmente qualcosa di più di quella definizione che magari non uccidiamo nemmeno quando imbattiamo in qualcosa di facile e antico vale. No. Beh, so, possiamo anche rimessere d'accordo, perché c'è tante cose che sono antiche e valore nulla. A cui noi attribuiamo un valore, un nome del fatto che è poco conteso, quindi è anche più comoda da identificare come prima. Ma pure è una cosa che è bella, però la voglia deve parlare o è antipico, oppure è una cosa più difficile quando diciamo che è il nostro, quindi il nostro è che qualcuno non è, qualcuno non è, quindi è diventato unissimo, però sono tutti valori, i dati, forse, con la pioggerezza, se il paesaggio, l'insediamento in computer di Valermo è parte del paesaggio. Poi, io credo che è la comunità stessa che vive oggi, che decide, non è che di cancellare, abbattere, rifunzionalizzare, dimenticare, ma è un valore, è qualcosa di storico, non può essere giusto o sbagliato, è qualcosa di storico, non si può conservare tutto, però anche l'idea della tarongenesi, è un campo pixelato, perché non c'è stato mai, è un'unità che al paesaggio, tra l'altro, il paesaggio è ancora brutto, diciamo, perché mi era appucciato, non c'erano le nuove intanto per rinascere i libri, se mai rinasceranno, non lasciamo stare, ma è in quel caso il mio stato culturale di tarongenesi virtuale che passa, e allora, probabilmente, questo dicevo io, possiamo essere sereni, nel senso che non avremo mai a soluzione, ma questo non vuol dire che non dobbiamo ragionare in questo contesto dinamico, guardate, l'ho detto benissimo, in un contesto dinamico, in una partita di rugby, in cui un rugby non ci si muove di dinamico, però ci sono fortissime tensioni in un senso e nell'altro, ma se ti togli la mischia, la partita è finita, è persa. Non so se vuoi capire. con me, Non so se vuoi capire. Non lo so, a me questo intervento... Sì, ho fatto, ho fatto, sì. Sì, a me questo intervento è fatto, pensare che io ho passato in un'escovo che ci sono tutti, allora, poi, alla terra, o comunque, il contesto, voi, poterlo scritto, con me, di discusione, di archivare, di un'esperitaggio, non sappiamo se percepiti come positivo o no, come un'emozione negativa. Magari la curiosità della comunità può nascere nei confronti degli studi di questo contesto per capire in che quali sono stati le ragioni che hanno portato alla costruzione di fare ragioni. E attraverso questo studio sicuramente interrogarsi su quale fosse la situazione precedente e da questo comprendere quali possono essere le ragioni della costruzione di questo nuovo setto e anche quale cambiamento ha comportato nella vita della società in quei quartieri. Questa è molto interessante analizzare tutti i spazi che abbiano presso la comunità un impatto di percezione negativa perché possono prendere la loro funzione dei registri sistemi. Non vedo perché di non imbarcarti nello studio di un contesto attuale. Siamo abituati a dire che lo contribuiscono alle ore. Ma in realtà è un po' che ti ha lanciato la domanda perché mi stava a sapere cosa. Se posso dire la differenza dovrebbe essere proprio nel non iniziare uno studio perché penso che debba avere valore per una comunità. Ma il problema è partire da uno studio perché tu pensi che con quel fenomeno sia importante da studiare, raccogliere le tracce, raccogliere tutta la complessità che ci torna a quello per coprire un pezzo di una storia. Che poi questo possa diventare qualcosa di cui una comunità vuole appropriarsi o trasmettere e quindi che consideri di valore da trasmettere è un'altra dimensione. Non sempre gli studiosi studiano perché hanno alle spalle una comunità, anche perché hanno un problema di ricerca. Certe volte sono dei pezzi del passato perché pensi che siano fondamentali da capire, ma non è che hai sempre un committente o una comunità dietro. Perciò le due questioni sono, se no altrimenti la pressione della comunità che deve valorizzare qualcosa diventa più importante del problema scientifico che ti stai ponendo tu. Invece tu dimostrerai con la tua ricerca che studiare quell'oggetto significa comprendere un pezzo fondamentale di una storia di una comunità. Ma lo dimostri tu come studioso, non so se... però questo fa parte di un'ossessione che ci circonda. E perché siamo ossessionati dal fatto che se lasciamo che qualche cosa deperisca quel passato non c'è più? Nella storia dell'umanità c'è sempre pezzi che vanno distrutti, di monumenti, di tracce, di memorie. Perché sempre c'è l'oblio? Perché siamo ossessionati dal fatto di dover ricordare tutto? Perché? Come storica è uno dei temi che si studia, no? Un pezzo di risposta c'è. Perché fino a poco tempo fa avevamo un modo di avere rapporto col tempo storico che aveva una sua coerenza. E eravamo abituati a pensare di essere l'apice di un certo sviluppo. No, c'era un certo racconto della storia in cui alcune questioni fondamentali, l'Occidente, la civiltà liberale, lo Stato nazione, l'identità nazionale e poi quello europeo, le davamo per scontate con tutte le definizioni di patrimonio, di cose importanti. Questa cosa è franata, perché prima o poi le civiltà comunque finiscono, ce lo dice la storia, e adesso ci si guarda intorno, ognuno cercando di capire, ma allora forse di quel passato, e se perdo questo, perdo qualcosa, se perdo quest'altro, perdo qualcosa. Quindi siamo in questa situazione, ma come studiosi noi dovremmo dire, mi interessa questo problema, e come ha fatto benissimo la collega di Pisa o anche le altre colleghe, ti dimostro che se non uso questi strumenti, un pezzo importante della storia del Novecento non si racconta. Un pezzo che non era importante fino a poco tempo fa. È chiaro che più si va avanti nel tempo, più si arriviamo a prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, guerra fredda e tempi più contemporanei, i conflitti sulla memoria da Ra sono più ampi, è chiaro, perché li abbiamo storicizzati di meno, ma vale anche sul passato, con te lotte abbiamo fatto su come raccontare la rivoluzione francese o altri pezzi del passato, e se ne faranno sempre. E comunque un pezzo di un mio c'è. Lo studioso dice, io voglio recuperare questo perché ti sto dimostrando che altrimenti alcune cose non si capiscono. Do un contributo a comprendere una storia della scontemporanea che è fondamentale. E non è detto, posso poter giungere una volta che tu hai dato il contributo e che ne hai anche veramente fatte emergere, perché magari, almeno no, non so se di cosa ti occupi, ma noi, sono archeologiche, ma per me la traccia materiale è quella che mi racconta delle cose che in altra maniera io riesco a leggere. Non è detto che alla fine di quel racconto che ti hai costruito e magari hai anche esposto e fatto comprendere quella comunità, non ne vuole fare di niente. E limini totalmente, e mandi nell'oblio e distrugga quell'elemento. Cioè, questo ovviamente non dipende da noi, no? E sta nel gioco delle dinamiche in cui siamo in mezzo di tutti quanti, insomma, che sono quelle di veramente, forse è veramente la forma a mezzo, se siamo devoltre deformati qui, però... Cioè, è veramente solo un sistema di apporti e asportazioni, cioè, e lo facciamo quotidianamente, cioè, basta che non osservi una sua giornata quotidiana, tutto quello che accumuliamo, duttiamo e cambiamo, ricicliamo, cioè, è veramente... e se lo allarghiamo, no, sono una sfera ovviamente più ampia. Quindi, alla fine, no, come dicevo, mi interessa questa cosa, ci vedo qualcosa che manca, che non c'è ancora nel racconto, che non è ancora patrimonio comune nel senso di conoscenza. E poi vediamo, insomma, cosa la racconto e poi lo sa. Grazie. Prego. Allora, quasi edifico ai complimenti del collega, io ho due domande, che è quello che tu sarai sentito. Prima, mi propongo una domanda da Zucato, per il lavoro di tutti. In primo caso, per l'aeroporto, che ci ha spiegato che è un movimento che ha chiesto alla fine di avere un piccolo consiglio, dopo l'identificazione dell'aeroporto, per l'identificazione del territorio. C'è stata una richiesta, o dei movimenti e delle proposte, per approfondire indagini archeologiche, quindi siano premonizioni oscali, oppure leggi una scelta di ricordare, ascoltando la memoria di una storia che c'è stata, che si trova da collaborazione di urgenti, e che non serve approfondire, perché dato che ce la conosciamo più o meno, o c'è una presa di consapevolezza maggiore, e quindi forse richiede un'indagine, per fin po' quella del campo, e qui un'ulteriore indagine. Allora, in realtà, questo museo, che è veramente un'astanza, non è un soggetto, l'oggetto che ho mostrato è conservato nella chiesa, e il museo semplicemente ha dei thumbnail, e ci sono delle interagini e delle interagioni scritte sulla storia dei teraporti. L'istituto di riferimento potrebbe essere l'istituto di patti, cioè che l'istituto di riferimento fosse un comune, e in realtà io, perché nel momento abbiamo molto detto l'ore, invece, quella del suo riferimento, comunque è l'istituto di laurea del fatto che questo è un'ultima recente. No, sarebbe sicuramente interessante capire se... Vabbè, innanzitutto mi piacerebbe approfondire ancora al studio delle fotografie aneree e essere in grado di proprio delimitare precisamente i confini, questo spazio, per capire se oltre all'esterrato ci passano delle strutture di appoggio e di coordinamento, che sono un grande del pubblico ammossibilizzato, e le strutture di appoggio e di coordinamento, ci sono un approccio fisico, e dopo di che, ovviamente, la questione a voi, è una materialità che giustamente fatta, gli oggetti da superficie, per forse, va a coneggiare anche le quali... sicuramente il pubblico ammetterebbe molto, sarebbe bellissimo, ovviamente, scoprano come le geste, questioni organizzative, pratiche economiche, però sì, in realtà su alcuni contesti, non sopporti in qualche vera, però su alcuni contesti che ho individuato, o altri, in più molti di un'opera di oggi, un'opera di un progetto che si sta nascendo, ora per il dottorato, probabilmente faremo delle campagne di munizione, per capire come se c'è stata un'attivazione, un'attività di divisione partigiane, se troppo si possa trovare delle nuove realità, sul campo, insomma. Sì, grazie. Poi la seconda domanda, per la dottoressa Lenchini, lei ha parlato un po' di contronerrazione, cioè utilizzare l'archeologia per proporre una relazione alternativa, e poi, in una frase, mi ricordo su quella, del secondo flusso che è arrivato da Berlusa, che è quello del turismo. Qui c'è lo stanno, facciamo un flusso che sbarca a sud, e un flusso invece che sbarca da nord. E tra i vari indicatori materiali, che riguardano il flusso migratorio, abbiamo trovato degli indicatori che invece, non si riconosce il flusso turistico, e quindi, anche in questo caso, so che forse nel centro di merito del progetto, però si può espandere, ecco. E i miei due materiali, che invece pensino anche di dare una contronerrazione del turismo, che viene visto sempre positivamente, invece la microcione è quella che prima, ma abbiamo visto invece che da parte della comunità è il contrario, e invece il turismo, che invece viene visto dalla grande interazione, dove è qualcosa che dico perché porta l'autonomia, porta gente a scoprire l'isola, se invece di contro abbia un impatto del turismo, che si ritrova nelle tracce che tra le zone archeologhe. Allora, una domanda complicata. Intanto noi siamo purtamente andati nei mesi meno turistici, questo perché è veramente impossibile, cioè l'isola, fate conto, 6.000 abitanti, queste state ci sono 70.000 persone, cioè quindi esplode veramente, cioè e non era possibile ovviamente fare le condizioni, o anche, insomma, per quanto io in realtà sono molto curiosa di andare a vedere la versione, in fatto turistico, esattamente, un'altra isola. Però, per rispondere a tua domanda, allora, sì, limitatamente abbiamo provato, nel senso che abbiamo provato degli oggetti, in questi contesti, che sono dei contesti, ovviamente qui abbiamo sintetizzato, però sono dei contesti molto articolati, cioè non è che c'è l'odata delle cose del cliente, in realtà arriva quello che il mare porta principalmente, e si leggono varie realtà. Il discorso migratorio, ovviamente, perché è forte, è imponente, tutto il discorso legato all'economia della pesca, comunque, cioè ci sono tanti, tipo uno degli elementi, noi abbiamo più o meno posizionato 2.800 oggetti, cioè comunque ci sono 300 frammenti di castellità del pesce, per farti capire, o gli amici o i galleggianti. Ci sono alcuni elementi che possono essere ricondotti al turismo, a parte dal giochino alla spiaggia, il cappellino, ma ad esempio io ho fatto questo lavoro, siccome la cosa quantitativamente più preponderante preponderante sono le bottiglie di castello, ecco, sono proprio tantissime, sono la maggior parte dei reperti, allora io ho provato a guardare, cioè come fossero, tipo 12 anni, esatto, mi sono messa lì, l'ho fatta lavorata tutte, ho visto la cittadina di Vama, sono state prodotte, ci sono tutte le dati, quando ci sono le dati di scadenza, eccetera. E ad esempio lì viene fuori che sicuramente una parte di tutte quelle italiane e di tutte quelle siciliane che arrivano sull'isola, per esempio l'isola è un'isola che non ha la portata, quindi si beve solo acqua minerale, non c'è un apporto di bottiglie d'acqua, è incredibile, il quotidiano, ovvio che una parte di quelle bottiglie arriva, si collega al momento del turismo, però è anche vero che è veramente complesso, perché questi oggetti sono trattati in due maniere diverse, quando c'è il turismo le spiagge sono pulite, costantemente, quotidianamente c'è chi le pulisce e le tiene pulite, perché campano con la spiaggia, mentre invece quando non c'è il turismo c'è un ammasso enorme di oggetti e non solo sulle spiagge, per le strade, forse per noi che siamo abituati a vivere in dei contesti più o meno stradini, insomma, con la differenziata, per usare un posto con cumuli di spazzatura, più o meno ovunque, ora la differenziata l'anno è stata a settembre, quindi vediamo se magari piano piano, però, come dire, questo rapporto con la materialità e soprattutto con i rifiuti, quello che resti, è abbastanza strano, è abbastanza complesso, perché appunto facilmente, per mesi, le cose rimangono lì e fanno cumulo e allora magari in quel cumulo c'è anche le tante di natta che hanno buttato in mare le barche, gli yacht che girano intorno, però non sono poi così diverse dalle tante di natta, cioè se ne le trovi marchiate, ad esempio, non si riconoscono, questo è un altro portore che secondo me può far riflettere, perché poi, per dire, le scarpe sono le nike, cioè sono uguali a quelle che ho io a casa, le felpe sono fruit of the loom, ce l'ho anch'io, però è la felpa dell'immigrante, allora alla fine anche sulla tipologia degli oggetti poi scattano delle riflessioni, uno per il fatto che sono cose che conosciamo, ci sono familiari, due per il fatto che non sono diverse dalle cose che utilizziamo, quindi queste serie di altro, è tanto da, no, la materia ci consente di riflettere, capito, cioè la mette un po' in crisi, per quello che forse si diceva mi piace questa cosa di negoziare e contestare, perché alla fine la traccia ci dà la possibilità di tirare fuori degli spunti che magari solitamente non cogliamo, ma anche banalmente perché siamo arrivati a vedere, insomma, ci facciano calci. le spiagge in cui sono piene di spazzatura, gli oggetti che non ripulite d'estate e quindi poi avete fatto delle mappe, le piante di utilizzo, degli spazi, non so, colpo d'occhio di questo genere, se c'è una scelta da parte della comunità di utilizzare i più per alcuni spazi in periodi dell'anno, ovviamente quest'estate in periodi sono periodi molto diversi e anche in relazione alla forte potenza militare, se c'è una sorta di resistenza invece della colazione che continua a vivere linearmente a questi luoghi e anche lì leggere archeologicamente mappando l'utilizzo del suolo cosa si sceglie di escludere dalla vita quotidiana ma anche di escludere per esempio dal registro turistico cioè decide di escludere una determinata spiaggia o un determinato o al centro dell'isola perché troppo intaccato da dei fenomeni che colpiscono lì da una isola in maniera diversi noi abbiamo mappato le aree digitali in realtà quelle sono di per sé escuse perché sono in servizio se ci sono no non sono solo nell'interno nel centro della città cioè due rami del porto che era il porto turista che ora sono rami che si può entrare si sbascano come vedete che vanno a fare supporto nella zona sa quindi a recuperare le persone in mare e sono proprio nel centro nel porto principale quelle sono ci si convive cioè l'idea che ho avuto io insomma è che si convive con questo stato di fatto per due motivi uno perché allora intanto se tu vai a una chiusa tu ci vada è stato di inferno non hai per niente la percezione del interesse intanto i migranti non li vedi non li vedi proprio perché è un protocollo ormai per cui i passaggi sono molto contingentati arrivando lo sbarco vengono caricati sui pulmi vengono portati nell'hotspot l'hotspot è al centro dell'isola un posto dove non va nessuno non arriva nessuno e l'isola è piccola però è proprio distante separato una delle cose per cui una parte di tramontarsi la menta perché prima in realtà riuscivano ad avere rapporti con queste persone le persone andavano in paese andavano a telefonare a casa qualcuno gli offriva una doccia qualcuno un pranzo ora questa cosa è proprio nettamente separata quindi non vedi persone al giro capito ne vedi sicuramente di più a meno a Pisa ragazzi che vedono che le nonna hanno peggia quindi non ci sono delle zone dove non si va perché ci sono i migranti non ci sono gli indicatori perché vengono troppati perché quando deve arrivare il turista si pulisce tutto assolutamente perché anzi ora c'è molto questa cosa che Lampedusa non vuole essere associata all'idea dell'animazione perché è una una reazione antituristica che in qualche modo adattava un turista quindi loro assolutamente puliscono poi però intervisti una serie di persone che ti raccontano che da sempre in inverno quando non ancora non arriva proprio la massa dei turisti loro vanno al mare vanno sulla spiaggia e puliscono il pezzettino dove si tendono l'asciugamano ne fanno un sacchetto e poi lo buttano se lo portano via e lo buttano nel bidone quando in quel sacchetto delle volte ci sono anche cose che magari conservano perché questa signora ci raccontava che trovava quando dei documenti quando delle cose di bambini quindi ti faceva in qualche modo avere una sorta di empatia queste cose quindi qualcosa aveva conservato qualcosa aveva fotografato però come un'abitudine capito andava puliva ci convive l'isola ci convive anche se denuncia in tutto questo denuncia per tanti motivi che non sono solo quelli dove vivono in quant'altro grazie allora ti volevo ringraziarvi questo pulizio che è stato molto stimolante avrando una serie di gambari per cui ho cercato spero di essere chiara perché ci sono tanti pensieri che mi sono sviluppati spero che mi vedevi chiare come le montagne video con voi cioè sul fatto che anche se non ci si occupa direttamente di archiologia del contemporaneo credo che questa round cut viaggia un apporto importante all'archiologia tutta su alcuni punti sia metodologico che teorico sia perché ad esempio come ho visto si può testimoniare studiare la formazione della traccia archeologica come è stato detto con il civiltà delle parconi ma anche ragionare su un ricordo che ha così tante tracce è vero che sono un aspetto diciamo un po' antitentico importante che però è vero che è seriale quindi è vero del gnaustico se vogliamo però ci permette anche di sottolineare quanto noi ci ha fatto ci affacciamo a dei vuoti spazionalmente delle assenze e quindi questo ci riporta anche la prodossi di umiltà diciamo ci impone il nostro lavoro quando abbiamo le costruzioni storiche poi l'altra cosa che l'altra cosa su cui volevo fare è sul ruolo dell'archeologo cioè dalle vostre presentazioni cioè ci sono degli stimoli rispetto al ruolo nella società nel rapporto con le altre discipline nel rapporto con le altre fonti cioè con le fonti e le esempio iconografiche rispetto poi alla faccia materiale e questo insomma lo volevo portare insomma a tutti e l'altra cosa che volevo chiedere è se avevamo detto che si può studiare fino a finire anche con questa metodologia mi chiedevo una curiosità se esistono dei disturbi sul covid cioè sull'arche tecnologico noi sul nostro sito del laboratorio mappa noi abbiamo fatto questo progetto che si chiama ogni giovedì che in realtà è stato fatto curante il covid quando il giorno del primo lockdown nel 2020 con una collega abbiamo pensato che quello che stava succedendo era estremamente storico era qualcosa che non avevo mai più visto e che andava assolutamente documentato in quel momento lì abbiamo pensato ci avevano detto che saremmo state tutti in casa due settimane anzi prima chiudevano le scuole io ho una figlia le elementari quindi ho detto addio la figlia che la guardano e quindi abbiamo pensato che le donne sarebbero state quelle che in quelle due settimane avrebbero avuto un impatto forte perché avevano gestire i figli allora abbiamo deciso di provare a monitorare archeologicamente anche se in una forma un po' inedita per quanto mi riguardava perché senza avere un contatto fisico con la materia perché non era possibile il rapporto fra le donne che erano in casa in lockdown e gli oggetti che avevano in casa cioè gli oggetti domestici che tipo di relazione si instaurava e cosa avrebbe lasciato come traccia quella relazione è stata una cosa un po' estemporanea questa sono imprevista dalla pandemia e pensavamo di fare un focus group di 30 persone abbiamo fatto tipo chiamate così in realtà queste persone poi hanno passato parole passato parole insomma sono diventate 180 e sono diventate anche un po' ingestibili e lo dico non a caso perché secondo me l'ingestibilità per la quantità dei dati è un altro dei termini di cui dovremmo parlare rispetto al contemporaneo perché l'abbondanza delle tracce l'abbondanza dei dati non è cosa da poco e niente abbiamo monitorato ogni giorni cioè settimanalmente queste persone ci hanno mandato forma che le avevamo fornito ci raccontavano tutto quello che facevano tutte le cose che voi usavano tutti gli oggetti che usavano e se volevano associavano a quegli oggetti dei racconti perché per loro era importante cosa quindi sono tutti fuori veramente i racconti familiari i racconti personali poi questa cosa doveva le due settimane e in realtà sappiamo quanto siamo stati in casa quindi è diventata una cosa molto molto più lunga e scendata la 30.30 di giugno motivo per cui non la trovate ancora pubblicata da nessuna parte perché siamo stati inondati i dati sono veramente stati troppi e quindi abbiamo finito ora lo scorso mese di lavorarmi però il tentativo è stato quello questo perché ho fatto il periodo posso raccontare ci sono però a livello internazionale soprattutto Nord Europa qualcosa a Finlandia qualcosa a Svezia in Spera c'è le Stati Uniti una serie di progetti se cerchi banalmente anche su Accademia Covid Contemporary Archeology c'è stata una serie anche in Mediasa ci sono quelli che hanno c'è il sito mi sembra Osmos non mi ricordo c'è stata una ricognizione per il quartiere urbano con tutte le tracce dalle mascherine buttate ai guanti buttati per capire l'impatto che aveva e anche capire l'utilizzo eccetera ci sono state alcune cose legate appunto a degli sguardi mirati le donne i bambini ci sono tanti tanti progetti sono tutti un po' strani secondo me dal mio punto di vista proprio perché sono fatti a distanza cioè a differenza di come siamo soli di abituare ma manca il contatto proprio con la raccia perché non è ovviamente possibile grazie sì devo dire che effettivamente le questioni metodologiche anche sul covid consentono di fare due precisazioni che intanto se parliamo di contemporaneo effettivamente una distinzione va fatta su un modo contemporaneo quello che spesso richiamiamo la storia del tempo presente ma per due motivi che come spesso emerge anche dagli studi fatti prima quando hai a che fare con la memoria comunicativa cioè quella intergenerazionale ci sono delle avvertenze particolari che tutti dovrebbero avere quindi nei memoristali gli studi culturali ci sono dei meccanismi che vanno presenti per esempio le memorie tra le generazioni non si trasmettono automaticamente si è rotto nella porta del prima cera tra le relazioni dei nonni la generazione dei nipoti per esempio soprattutto degli studi sull'olocausto è venuta fuori con molta forza i tempi delle memorie comunicative che vengono fuori quando arrivi a una certa età quindi c'è quasi una ciclicità una generazione arriva a un punto della sua della sua età e sente il bisogno di ricordare di riallacciare il piccolo passato quando fa questa operazione le avvertenze che non mi amore di secondo o di lei del terzo livello che bisogna avere sono tante e quindi quando siamo nel campo delle storie individuali delle memorie individuali che spesso con lo studio anche degli oggetti vengono fuori e sono preziosissime anche per gli studi storici il lavoro deve essere interdisciplinare con questa forza secondo me la teologia del contemporaneo come alcuni studi dimostrano che il lavoro intimo interdisciplinare è prezioso è prezioso di